Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie tv Buonasera ragazzi, bentornati, questa è Pizza e Cinema, lo show in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie tv Col problema che oggi mi sono rotto il cazzo di ordinare la pizza, tanto non arriva, quindi oggi non lo faccio, oggi non ordino niente Punto e basta, quindi oggi si parla di eroi, insieme a noi in questa discussione incredibile abbiamo la nostra bellissima Violetta Rox e il nostro bellissimo Tommaso Renzoni Oggi siete tutti bellissimi, tranne Gianni Anche tu E poi ci sono io sempre ovviamente Io lo diventerò tra poco tramite un oggetto che ho portato E Gianni tra poco tramite l'oggetto che ho portato Oddio Allora ragazzi, puntata monotematica, come sapete benissimo, come abbiamo detto prima, oggi c'è un tema Il tema della giornata, della puntata di oggi sono gli eroi, gli eroi nelle storie di quello che possono essere film o serie tv Come diceva Gianni poco fa, eroi non supereroi, quindi non si parla di Superman, di Batman o di qualcun altro Ma dell'eroe in una storia E ci sono molti eroi che voi non vi aspettereste Molte cose che uno non si aspetta E oggi parliamo proprio di quello Parliamo di quello Abbiamo voglia di parlare di quello Quindi io inizierei dicendo, presentando gli oggetti E magari, vabbè no no, presentiamo gli oggetti E poi iniziamo un po' con le varie domande Quindi I oggetti che abbiamo portato I oggetti che abbiamo portato Inizio con Adriano Santucci che non c'è, doveva esserci ma ha avuto un contrattempo Però ha detto mostra l'oggetto Perché sì E io ve lo mostro È un mantello Ha portato un mantello Ma che è il mantello del zorro questo? No, è un mantello nero e poi tu puoi fare anche così e diventa rosso È un mantello di zorro È un mantello del zorro È un mantello del principe valido O di Dracula Principe nero Aspetta Principe delle tenebre Amato C'è pure il cappuccio Bello C'è il cappuccio Sì, questo è il mantello Aspetta Gianni Vieni, vieni Ok Adesso Gianni sarà questo Ah Ragazzi Ecco il vostro incredibile Gianni Finalmente sei diventato un supereroe Sono diventato un supereroe Oh, dai L'incredibile Gianni Perfetto Per chi ci segue solo tramite podcast Meno male Perché così vi evitate questo spettacolo raccapricciante Raccapricciante Sembra più un super cattivo Abbiamo Matteo Bruno Ma che sta succedendo Chi sei il conte Dracula È solo Batman No, sei il conte Dracula minchia Matteo Bruno Come va il tuo lavoro incredibile? Matteo sta lavorando E finendo il documentario Che uscirà a breve A breve Sul canale Canesecco Su Giorgio Giorgione Power Vada registra un voiceover nel magazzino Che è la stanza con l'acustica migliore Perfetto Ciao Vabbè, quindi Adriano Santucci ha portato questo Il mantello Perché per lui Il concetto di eroe È un po' A livello classico È quello che può rappresentare Un principe O anche per certi versi Un supereroe Ecco Abbiamo detto E rosso E anche Superman No, per certi versi Comunque è il mantello Il conte Dracula Però andiamo avanti Va bene Violetta Tu che cosa ci hai portato? Allora Io C'è la mia prima puntata monotematica Questa Quindi onestamente Non sapevo bene Non lo so Potrei aver sbagliato il compito a casa Però L'ho fatto lo stesso Vediamo 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 Io vi ho portato Questo Che magari così può non avere un significato Vedi Dracula Secondo me Se lo impugno così Ah Qui c'abbiamo Dracula Baffi E tu c'hai il paletto per uccidere Dracula È perfetto È baffi È baffi Sì Visto Non me l'aspettavo Che ci sarebbe stato addirittura un vampiro Perfetto Allora ancora meglio Vedi sta Bello Bello Questo perché Perché Per te È il primo eroe che ti viene in mente Pensando quell'oggetto Esatto L'eroe Perché Ho pensato sia a qualcosa che per me sia simbolico E anche a cui sono legata anche a livello affettivo Perché ero una ragazzina Quando vedevo Baffi E per me lei è stata la prima vera eroina Il primo vero eroe A cui mi sono affezionata E che ha significato qualcosa E che ha significato qualcosa per me Diciamo A quell'età Che insomma Che ci avrò avuto Un buon treddici anni Non lo so Quattro dici anni Ma una ragazzina E E secondo me Baffi è un eroe molto classico Perché comunque Si rifà A una dinamica In cui abbiamo Il prescelto Lei è la prescelta Che deve sconfiggere Le forze del male Quindi qualcosa di comunque un po' obsoleto Rispetto a come si stanno scrivendo oggi le nuove storie Quindi avere l'eroe che è un unico Un prescelto Che deve risolvere tutto quanto da solo Che è tutto sulle sue spalle Eccetera Sta diventando un concetto un pochino obsoleto Però ovviamente Baffi è un personaggio degli anni 90 E quindi invece all'epoca Era una delle eroine Diciamo al femminile per eccellenza Nonostante lei faccia Per lo più prevalentemente Un viaggio dell'eroe Perché è proprio molto classico E anche di male Lei è una prescelta Come è un prescelto Che ne so Nio Capito Che quindi hanno questi superpoteri Questa unicità E deve gravare tutto sulle loro spalle Che nel caso di Baffi Si lega anche al concetto del girl power Che anche questo è un concetto Che sta diventando un po' obsoleto Ma magari ne parliamo dopo del girl power James Cameron avrebbe qualcosa da ridire su questo In che serie? E quindi su cosa? James Cameron e le sue protagoniste Sono sempre eroine Ma ne parliamo Sì 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 Vabbè Don Mano Io lo vado a prendere Quindi intanto Ah tu vai Ti puoi Giovanni Ti puoi Ti puoi Nell'altra volta Io siccome devo sempre rompere il cazzo Su tutte queste cose In realtà Giovanni ha portato un oggetto Che voleva E non ha voluto pagare però Esatto Di base Siccome so che quasi ci sono questi oggetti eccetera Io ero una cosa che volevo comprare Ma non mi andavate pagare E quindi ho detto Lo faccia comprare o studio Io ho portato il fumetto del corvo Perché A parte Il corvo È il mio primo film al cinema Primo film al cinema È inteso proprio come film E non Cartoni animati O live action No live action Non c'erano i miei tempi Cartoni animati Perché prima Andavo semplicemente a vedere Che ne so I classici cartoni animati Disney al cinema Questo invece è stato Il mio primissimo film E quindi da un certo punto di vista Sono molto legato a questo film Per questo motivo E poi perché io trovo Che Eric Draven In qualche modo È un eroe Nonostante Uccida le persone Ma Lo fa per Anche per vendetta Sì Senza dubbio Però Non lo so Io l'ho sempre visto come un eroe Adesso Tommaso Lorenzoni Mi smonterà questa cosa Perché lui è quello che mi smonta le cose Quindi niente Però per me Cioè viene accatato Tu arriva con un giravide E ti smonta il letto Però per me Eric Draven è un eroe James O'Barr Che è lo scrittore Del fumetto è un eroe E poi de base Volevo questo fumetto E quindi l'ho comprato E questo Me lo porto a casa Quindi non fate vincere L'oggetto di Giovanni Implicitamente Non me lo porto a casa comunque Voi se vincio Perché niente Vai Tommaso Dunque no Allora intanto non smonto Assolutamente Anche perché l'eroe Non è Da un punto di vista morale Quindi non Puoi anche uccidere Tutti quanti Con una bomba atomica Ed essere l'eroe della storia Nel senso non è Invece Però ricollegandomi a quello che ha detto Sul viaggio dell'eroe Il mio oggetto parla proprio di questo Nel senso che per me L'eroe È La coppa Nel senso che è il La ricompensa È quella cosa che Alla fine Alla fine Qualche modo del Corso Gli viene dato No? Da lui bere l'elisir Per poi appunto Vivere Eternamente Quindi insomma Il simbolo del Graal Della coppa È in questo appunto Uno dei miei film A livello di eroi Di viaggio eroi preferiti Che è l'ultima crociata Chiaramente Con tutto quello che Si porta appresso E quindi per me L'eroe È quel Quell'uomo Quella donna Quel personaggio Che alla fine Quell'essere umano Che alla fine del viaggio Diciamo Riceve Finalmente La coppa Che contiene Il suo Il suo Il suo elisir E quindi la coppa Io a proposito di questo Cade proprio a fagiolo Perché Ho portato un oggetto Ma prima di mostrarvelo Devo farvi Un piccolo monologo So cosa significa perdere Credere disperatamente Di aver ragione E nonostante ciò Fallire Lo temi Lo sfuggi Ma il destino Arriva ugualmente E ora Eccolo O dovrei dire Eccomi Ho portato Il guanto dell'infinito In realtà Sembra una stronzata E sembra Cioè È una stronzata No no È proprio da te Però No no Però vi spiego Perché ho portato Il guanto dell'infinito Perché come dice Il professore Renzoni La cosa particolare Dei film È che Un eroe Non è semplicemente Colui Che fa La cosa giusta A livello morale Ma è il tipo Di scrittura Che viene affidata Ad un personaggio Che lo può rendere Eroe O meno Infinity War Come film Ci ha insegnato Che Il vero protagonista Della storia È Thanos È lui Che fa il percorso Ed è lui Che ottiene Il famoso Elisir È lui Che ottiene La vittoria Paradossalmente All'interno Di Infinity War Gli avversari I cattivi Sono gli Avengers E questo Lo si può evincere Da una strutturazione Della sceneggiatura Se si prende Infinity War C'è un problema Di fondo Se lo applicate È un problema di merda? No Se applicate La struttura Della sceneggiatura Agli Avengers Quindi alla scrittura Degli Avengers Il film finisce Nel momento Del tutto è perduto Non c'ha Un momento di rivalza Cioè loro Finiscono sconfitti Non hanno quel momento Che gli fa dire Ok adesso dobbiamo Ricompattarci E riuscire ad andare Contro questa minaccia Chi è che però Perde tutto A questo momento Di rivalza Proprio Thanos Che sacrifica Gamora Sua figlia E nonostante ciò Lui Sacrificando Tutto quello Che aveva al mondo L'unica persona Che lo amava È riuscito ad ottenere Questa Vittoria Che lui voleva avere Quindi per questo Ho portato Il Guanto dell'Infinito Che per me È un esempio Di come scrivere Un eroe Che non per forza Debba essere Positivo Diciamo A livello del film Ma è il film Che lo rende tale E questo È il mio discorso Ma io Ho una domanda Gianni Dica Ho una domanda Le dita si piegano? Certo Puoi piegarle? Posso schioccarle Addirittura Addirittura Fai vedere Adesso ho metà Della popolazione mondiale No no In realtà Ho semplicemente Desiderato Che arrivasse la pizza Vediamo se arriva Peccato che lui Se arriva la pizza Ha funzionato Non ho ordinato niente Non l'ho ordinato Che ha le gemme Che ha le gemme Che si staccano In metà delle pizze Vedi le gemme si stanno Vabbè Ma detto ciò Io volevo farvi subito Una domanda Importantissima In realtà è un regalo Non l'ho pagato Quindi io Questo me lo devo riportare a casa O così va a raccontare in giro Anche Sai che è come quella cosa Che c'hai a casa Troppo ridicola Ma che Oh no ma vabbè Me l'hanno regalato Che fai glielo ridavo Capito A me neanche mi piacciono I sex toys Capito Cioè tutti quelli Che hanno il libro Cosa di Fabio Volo Dentro casa E no ma me l'hanno regalato Non è che l'ho comprato No 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 Ma questo io lo volevo È stato un regalo Ma lo volevo Comunque Detto ciò comunque Detto ciò comunque Iniziamo la puntata Facendo una domanda Che potrebbe risultare banale Ma Potrebbe aprire A nuovi spiragli Anche per il nostro pubblico E quindi vi chiedo A voi E anche alla chat Che cosa significa Per voi Essere un eroe In un film Eh Qua c'è Tommaso Lorenzo Vai Inizia In maniera Abbastanza banale In maniera abbastanza banale Semplice For Dummies Così anche noi Comuni mortali Possiamo capirlo Vai Beh essere un eroe Vuol dire Trovare il coraggio Di affrontare Un'avventura Più grande di noi Senza aspettarsi Quello che si incontrerà Diciamo L'ignoto Dall'altra parte Ma sapendo anche Riconoscere La ricompensa Di ciò di cui abbiamo bisogno E poter tornare indietro Per ridarla Ai nostri simili Ok Proprio semplice Sintetico Sintetico E veloce Io vi dico Che una cosa Che vedo molto All'interno dei film In generale Questo Perché poi Il concetto di eroe Molto spesso Viene Visto come Solamente Una Persona Che ha dei superpoteri O comunque Affronta Qualcosa In maniera Eroica Abbiamo preso Indiana Jones Il corpo Thanos Buffy E così via Ma di base L'eroe in una storia È una persona Normalissima È qualsiasi tipo Di persona Anche nelle storie Romantiche C'è sempre Un eroe Per me La cosa particolare E fondamentale Che mi fa Dire Ok Questo è un eroe È l'arco evolutivo Cioè Io ho bisogno Di vedere All'interno del film Che mi viene narrato Un vero e proprio Approccio Alla sfida In una Determinata maniera Faccio un esempio Molto banale Smetto quando voglio Che abbiamo poi Pur analizzato in classe Prof All'interno di quel film All'interno di quel film Di fatto Apparentemente Sembra che non ci sia Nessuno che possa Essere identificato Come l'eroe Eppure Edoardo Leo Perché Edoardo Leo Sì 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 Però comunque Diciamo Non è tradizionalmente Il supereroe Esatto Però cambia tanto Ma non è una questione Tanto di cambiamento È una questione Di sfida Cioè lui decide Di fare qualcosa Di più grande Di qualche cosa Che effettivamente Potrebbe fare Con le sue potenzialità Va a sfidare Il sistema Lui è quella La persona Che riesce A partire Da un mondo Ordinario E entrare In un mondo Straordinario Che poi è quello Alla fine Della creazione Di smart drugs E quindi per me In questo senso Un eroe Fondamentalmente Io lo riconosco Quando all'interno Di un film Lui compie Questo atto Straordinario Che può anche essere Semplicemente Andare a parlare Con la ragazza Più bella Della scuola Anche quello È un atto Eroico Penso che ci siano Vari tipi di livelli Di eroi Ecco Tutto qua Violetta Tu che ci dici? Ok Sì Io vi dico A me E poi in particolare Avete detto Tutte cose giustissime E quindi io Vi dirò Che in particolare Mi piacciono molto Le storie Di ribalza Ad esempio Io ho un po' Un debole Per le storie Di ribalza Mi piace molto Quando l'eroe Magari parte Davvero dal basso Oppure viene Buttato giù Diciamo Da una situazione E deve Ricominciare Tutto da capo O deve iniziare Un percorso In una Partendo da una situazione Non di privilegio Ecco Quindi Per esempio Mi viene in mente Un eroe Molto carino A cui sono affezionata Da quando ero Piccolina Del mondo Di Pixar Che mi ha sempre Conquistata Particolarmente Ed era Flick Di A Buck's Life Che la sua È tutta una storia Di Di ribalza No? Perché lui è un emarginato È un personaggio Che viene considerato Un freak In un certo senso È un inventore Che viene considerato Però un fallito E viene trattato Diversamente Da tutti E continuando a sbagliare Però senza mai smettere Di provare Lottare Di tirarsi dietro Tutto l'entusiasmo Che lo contraddistingue Poi alla fine Riesce a dimostrare Che nonostante Sia una formichina E quindi anche A livello di concetto No? Quindi non valga niente Sia qualcosa di molto piccolo Riesce ad essere A diventare A trasformarsi In un grande eroe A salvare Tutta la colonia E anche a dimostrare Che quello che vedevano Di folle in lui In realtà Era probabilmente Geniale Invece E quindi Quel genere di storie Là Mi piacciono molto Quando gli eroi Partono da una situazione Magari marginalizzata Di grande difficoltà Però Non per forza Magari così Così dal basso Che ne so Una delle mie saghe preferite Lo ripeto sempre A cui sono molto affezionata È Ritorno al futuro E anche la storia Di Marty McFly In un certo senso È la storia Di un ragazzo Molto semplice Che vive una condizione Un po' di visaggio Con la famiglia E che viaggia nel tempo Per piano piano Costruirsi Quasi un futuro migliore No? Quanto meno Soprattutto alla fine del primo Quando noi lo vediamo tornare E il suo futuro è cambiato Cioè la macchina È un'epoca Quella molto materialista Quella degli anni 80 No? Quindi il successo È il macchinone È i genitori Che sono ricchi Che sono Il suo scrittore Di successo Eccetera No? Quindi ovviamente Però Comunque sia Nel suo contesto È sicuramente divertente E mi affascinava Ecco Quindi questo tipo Di eroi qua Sono tra i miei preferiti Non in assoluto Ma tra i miei preferiti Poi il ritorno al futuro È pure abbastanza particolare Perché per esempio Lui nel film Quasi arriva come parte Cioè È molto Non so Tommaso Forse mi picchierai Lui in realtà Non ha un arco Di trasformazione Non ha Però è in questo senso Iper mitologico Perché va in un mondo È edipo Va in un mondo straordinario E rischia di andare a letto Con sua madre Cioè È proprio tecnicamente Come dire L'archetipo mitologico Del Del Dover Di quella che è la crescita Andare in un mondo straordinario Scoprire che tuo padre In realtà Era uno sfigato Peggio di te Aiutarlo A rimetterti al mondo E così rinascere Diciamo in qualche modo Quindi non è un arco interiore Perché non ha Un problema Un need Quello diciamo Non ha un problema psicologico Però ha un arco Eroico Nel senso che in realtà Muore e rinasce Perché quando lui Rischia di non venire al mondo Di fatto Insomma È proprio il momento Di morte Esatto Morte e resurrezione Perché quindi riesce Rischia di andare a letto Con sua madre Come percorso psicologico Diciamo Legata La durazione E poi invece Aiuta suo padre E sua madre A rigenerarlo In qualche modo Io volevo prendere una domanda Alla chat Scusami No volevo mettere più Questa qua In evidenza C'è Darth Von Trier Molto bello il nick Che dice Scusate Così non si confonde La figura Del protagonista Con il concetto Di eroe E lui mette in evidenza Che in Jack Di The House Jack Building Cioè sarebbe la casa di Jack Quello di Lars Von Trier Proprio Vive un arco narrativo E un'evoluzione Ma difficilmente Lo considererei eroe E quindi io Vi chiedo anche Questa cosa qui Il protagonista È sempre L'eroe di una storia? No No nel senso che L'eroe Scusami Mi permetta Parto perché Non volevo No no vai vai Assolutamente No io ho parlato Fino a mo Facciamo un po' Il giro dai Così non mi essicco Anche io Le mucose Dico la Secondo me La questione È che Non è Eh si è bloccato Eh Tommaso Ti abbiamo perso Aspetta Ricomincia Questo è Thanos Questo è Thanos Questo è Thanos Questo è Thanos È andato così È andato così Tommaso ricomincia Ci sono? Adesso sì Adesso sì 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 Scusate Dicevo che Il protagonista Non è necessariamente Un eroe Eh ma un eroe È necessariamente Un protagonista Quindi avere un'evoluzione Non vuol dire Necessariamente essere Eh un eroe Però è chiaro Quindi alcuni film Hanno per protagonista Un eroe Altri film Hanno per protagonista Alte opere Teatrali Cinematografiche Hanno per protagonista Un personaggio Che comprende Parti di sé E ha un arco evolutivo O involutivo L'importante È non pensare Quando parlavamo Penso di Della moralità Dell'eroe Cioè di non pensare Che l'eroe sia Quello che fa Le cose buone Necessariamente Nel senso Che l'eroe È quello che Se appunto Come dicevamo Citando Thanos Se arrivasse Qui da noi Un alieno Potentissimo Che sta perseguendo Il suo viaggio Dell'eroe Che è l'eroe Del suo mondo E che Il cui scopo È distruggere La terra Per poter portare Indietro Come dire Una Un componente Che è nel nucleo Terrestre E così salvare La propria Stirpe Sarebbe un eroe Sarebbe l'antagonista Del nostro film Ma un eroe Nel suo percorso Quindi non è necessario Mentre un Un protagonista Però io voglio che parli Per forza Della casa di Jack Me lo dovete scrivere Prima per email Così L'arrivo Per lato Però io La casa di Jack Per esempio Non l'ho visto È molto bello Però io se posso dire Dark frontier La particolarità Che vuole dire il prof È un po' Il concetto di Thanos Nella vera e propria essenza Cioè Non è un eroe Oggettivo Ma l'eroe È sempre dettato Dalla scrittura Della storia Cioè il punto di vista Perché un conto è dire Gli Avengers Si trovano ad affrontare Una minaccia Che vorrebbe distruggere Tutto l'universo Un altro conto è dire Un salvatore Che ha capito Come salvare l'universo È costretto A scontrarsi Con delle persone Che vogliono impedirlo Questa cosa qui Forse capisco Quello che dice Che dice Perché appunto Pur non Ricordandomi La casa di Jack Così bene Da poter fare Un parallelismo Però L'aspetto Della comunità Perché l'eroe È mitologico Funziona Per costruire Diciamo Sono storie Che servono A costruire La comunità La società Quindi è chiaro Che l'eroe Compie Delle azioni Che hanno Come scopo Ultimo Quello Di impedire La distruzione Della comunità Diana Jones Se non Trova Il Graal Al posto Dei nazisti Insomma Chiaramente Cadrà Nelle mani Sbagliate Cioè Il tema Diciamo Finale È quello Di una comunità Che rischia Di essere In qualche modo Distrutta È chiaro Che Quando noi Parliamo Di Per questo Parliamo Dell'eroe Mitologico Diciamo Le grandi storie Perseo e la medusa Va perché È una minaccia A un'intera comunità Chiaramente Ma è figura Di altro Quella minaccia Cioè La minaccia Della medusa È una minaccia In realtà È una delle storie Più maschiliste Che siano state scritte Però diciamo È la minaccia Di una donna Che pietrifica gli uomini Quindi è una minaccia Una donna Che va Che è resa mostruosa E va E va Uccisa Però È questo Dico Gli attributi morali Questo di cui Parano In realtà Non Non sono Indiana Jones Non ha una moralità Così pronunciata All'inizio Del suo percorso Quindi non è detto Che L'eroe Abbia Una moralità O Spider-Man Non ha una moralità Così pronunciata Nel suo Nel suo essere Parlo di supereroe Addirittura La cosa La cosa da non confondere Per questo Dico Anche il protagonista Ha un altro Arco evolutivo È che Alcune volte Un arco evolutivo È rivolto A un bene Egoista E quindi È il rapporto Che ha l'eroe Con la comunità Scusate il tippone No vabbè È chiaro È chiaro Per esempio Nella casa di Jack Secondo me Non c'è un vero e proprio Eroe All'interno del film Infatti abbiamo risposto Anche alla domanda Che il protagonista È sinonimo Di eroe No E all'interno della casa di Jack Secondo me Non c'è un vero e proprio Eroe Perché lui persegue Più che altro Una sua concezione Dell'arte Quindi è Un appagamento Più Per se stesso Non nei confronti Degli altri È l'eroe Della sua storia È l'eroe Ma ne ha anche Perché lui sa Che è sbagliato E lo continua a fare Perché semplicemente Prova a piacere nel farlo E a quel punto È egoista Anche perché Anche perché La casa di Jack Lui interpreta La rappresentazione Di una persona Psicopatica Proprio con un disturbo Antisociale Dichiarato Il classico Psicopatico Quindi non ha Neanche L'empatia Da disturbo Perciò Non potrebbe Non comprende Nemmeno il concetto Di preoccuparsi Per qualcun altro Che non sia Lui E dissimula E finge Le emozioni Gli stati emotivi Imitandoli Dalle persone Che lui ritiene Avere questa cosa Ovvero le emozioni Che lui non ha C'è anche la scena In cui lui prova Le espressioni Allo specchio Per vedere Se è capace Di simularle In maniera credibile E utilizzarle Non per empatizzare Con gli altri Ma per ottenere Ciò che vuole Per i suoi scopi Fondamentalmente C'era qualcuno Per esempio Violetta Ha detto Buffy Prima Se qualcuno Arrivasse Da Buffy Dicesse Guarda Sì c'è un problema I vampiri Non esistono Sono un po' tutti Nella tua testa Stai ammazzando gente Da un botto di tempo E Buffy resterebbe Un eroe Nel senso che Come dire Compie Ed è prescelta Si sente tale Degli atti Per salvare la comunità Dal male Però quel male Purtroppo È una patologia mentale Della sua testa E In realtà Sta uccidendo Della gente innocente Quindi è una serial killer Però se lo raccontiamo All'interno di una persona Quindi di un serial killer Che è convinto Che sta epurando Il 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 Mondo dal male E quindi salvando il mondo Allora chiaramente Stiamo raccontando Un viaggio dell'eroe Esatto Per complicare la cosa C'era qualcuno Che prima scriveva Se è possibile Per esempio La figura dell'eroe In maniera corale No? In un film Ad esempio È il primo esempio Che mi viene in mente È Che ne so Lost La squadra di calcio Però per esempio A me viene in mente Lost Che è una serie Corale Dove ci sono Tanti personaggi Però da un certo punto di vista Dentro Lost L'eroe È Jack È Jack Shepard Chiamato Shepard Non per niente Quello che più è Pastore Perché è il pastore Che è quello che guida Bla 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 Ma anche all'interno Di una squadra di calcio Se ci pensi Il vero eroe È il principale eroe È l'allenatore Sì È l'allenatore O a meno che Un giocatore in particolare Un giocatore Quello che motiva Tutti ad andare avanti Diciamo così Quindi Dipende dalla storia Che si guarda Però sì Non esiste Non c'è un caso Dove Ce n'è più di uno Una storia Una cosa Secondo me No Esistono Esistono queste Queste realtà Io ho la sensazione Ma magari Mi sbaglio Per cui Non ho testi A supplemento Di questa teoria Che Se non L'esperienza personale Che quando si comincia A fare narrazioni Serializzate Quindi Momenti Serie tv C'è sempre bisogno Di avere più storyline Perché è molto difficile Mantenere tutta la storia Su una sola storyline Esatto Quindi alla fine Il cambiamento Per cui adesso Anche nel cinema C'è un team di eroi Sempre Un team di eroi Un team di eroi È perché Chiaramente Ormai Il paradigma imperante È quello di narrazioni Che sono Diciamo Di universi narrativi Quindi di narrazioni Che sono basate Sulla Scusate Mi sento basso Forse No Nerazioni Che sono basate No No Vabbè Anzi Azzate il volume No Vabbè Forse ce lo diceva A noi Comunque Ho battuto Scusate Di narrazioni Che sono basate Sul Sul concetto Che devono essere Reiterate Perché in realtà Nella sua forma Più pura Il Infatti appunto Citavamo dei film Che sono Degli anni Fino agli anni Ottanta Novanta In cui È ribloccato Abbiamo Riperto Lorenzoni Il fumetto Grosso modo Stava molto Ah niente Tommy Se n'è andato tutto Oggi è un disastro Oggi è un disastro Ma abbiamo ragazzi Abbiamo l'eroe Il nostro eroe Oggi L'antieroe O il villain Beh Lui è più o meno Il villain Ma da dove cazzo Sta chiamando E che ne so Chi sei il nuovo Andrea di prima Cos'è sta roba Sì sì Sei tornato Sei tornato Ah ottimo Ciao Marcuccioni Che fai a casa C'è una nuova location Super segreta Ciao Violetta Marco Ma sei tu quello che sta in fissa con Scam Sì sì È lui che sta in fissa con Scam Sono io Non ti sta piacendo Mi sparo se non ti sta piacendo No no Digli che non ti sta piacendo Diglielo Non ti piaccia Fa schifo Sono io Puoi scrivermi Rilassati Non l'ho ancora iniziato Non l'ho ancora iniziato Stai tranquillo Quindi ancora Che citta Sei sempre pronta a parlare di Scam Sempre pronta Dunque Cioni e l'antieroe Scrivono Ciao Adesso ne parliamo Volevo Infatti chiedermi Ciao Cioni Che differenza c'è Tra eroe e antieroe Violetta Per te Qual è la differenza Tra un eroe E un antieroe Allora Innanzitutto Scusa se riprendo il discorso Però voglio un attimo Chiudere la questione Degli eroi multipli Tra virgolette Secondo me è una roba Anche Abbastanza Recente Abbastanza Moderna Cioè è un concetto Che si sta spingendo Soprattutto negli ultimi anni Quest'idea di unione Di comunità Di eroe Che non è più Un unico Prescelto Che secondo me Va parecchio a braccetto Con il modo In cui stiamo Ricominciando A concepire In cui stiamo Cominciando a concepire La società E quindi Un mondo inclusivo Un mondo in cui Non devi sgomitare Per essere il primo Che arriva al traguardo Ma invece È un po' La classica frase Dell'unione Che fa la forza No? E quindi una condivisione Di responsabilità Che poi ti porta Alla Alla vittoria Lo Lo racconta anche Io non so In quanti avete visto Questo film Perché credo Che non sia andato Granché al bottevino Ma forse recupererà Quando arriva Su Disney Plus Però per esempio Lightyear Che è uscito Di recente In sala Scompone proprio La figura Di questo eroe Intergerrimo Militaresco Che è lo Space Ranger Lightyear E Ricondivide La sua responsabilità Schiacciante Con Il team Con il gruppo Lui deve proprio Imparare a condividere Che poi lui Chiaramente rappresenta Anche Un personaggio maschile Un personaggio bianco Quindi un personaggio Molto Classico Per quanto riguarda L'eroe E quindi Quest'idea Di metterlo in discussione E di portarlo Alla condivisione Anche della responsabilità Che aiuta Gli altri A essere Inclusi Sotto L'attenzione Diciamo Del mondo E al tempo stesso Aiuta lui A come dire Potere abbassare La guardia Gli permette Di poter abbassare La guardia E dimostrarsi Più vulnerabile Una cosa Un discorso Quello della vulnerabilità Degli eroi Che abbiamo visto Fare di recente Anche nel Batman Di Reeves Che Penso sia proprio La forza Di quel film Cioè la cosa Per cui Ha senso Rifare un Batman E proprio Mostrarlo Come un eroe Molto vulnerabile Una cosa Che agli eroi Non è mai concessa Agli eroi maschili Nel terzo Batman Nolan C'aveva provato Il problema è che Quel film fa schifo Però C'era provato Io sono Devo ammettere Che a costo Di Purtroppo Di essere anziano Da questo punto di età Beh lo sai Era in zone Quindi non ti preoccupare Io sono Esatto Non so se questo Mi rende eletrogrado Ma a me Questo aspetto Dell'eroe Il vantaggio Dell'eroe Non inclusivo Che abbiamo così Cioè quindi Non con un team Non fragile Lo svantaggio È chiaramente Che ha prodotto Generazioni intere Di maschi Emotivamente Distaccati Che non condividevano Li sappiamo Diciamo Quali sono I danni Che ha prodotto Però il vantaggio È che la figura Dell'eroe unico Resta E conduce A quella cosa Che dicevi te Dello sgomitare Per diventare un eroe Quindi in fondo Ha una specie Di tensione Al miglioramento Di se stessi Cioè di essere Come quell'eroe Di non poter essere Tutti noi un eroe Ma quello è un eroe Quello che fa Quindi a me piaceva Questo è sempre Questo Questo senso Nei momenti difficili Di potermi guardare Allo specchio E dire Ok adesso Devi fare come Adesso devi Devi diventare Come dire la versione Ma infatti Mi viene Ma io questo Lo capisco benissimo Anche perché Ti ho citato Buffy Che anche lei Nella sua versione femminile È comunque La prescelta Che deve arrivare Per prima Mi viene in mente Una cosa Infatti Dal discorso Che stiamo facendo Col fatto che appunto Diciamo L'eroe sta cambiando È più una cosa corale Che è una cosa singola Eccetera eccetera Ma quindi mi chiedo Il motivo del grande successo Di Maverick Che lì Maverick è un film Anni 90 Cioè Tom Cruise È l'eroe di quella storia Punto e basta Cioè non ci sono cazzi Può essere anche dovuto Il grande successo E l'amore che la gente Sta avendo di quel film Perché racconta una storia Con un eroe Un po' più vecchio stampo Un po' diverso Sicuramente c'è un vuoto ideologico Sentito fortissimo Credo Della mancanza Nell'abbattimento Di tutte le figure Di potere Di leadership Per cui ormai appunto Chiunque si erge Adesso seguite me Vado avanti io Perché sono senza macchia Senza peccato Tutti dietro a dire Sì tanto uscirà fuori Una cosa che hai fatto A 13 anni Tanto uscirà fuori Che in realtà Ti sei accordato Tanto ha pure quello Che è un eroe Non è più un eroe C'è la caduta dei miti Da questo punto di vista E degli ideali E del pensiero forte Potremmo dire Sendo ancora più noiosi Però ha prodotto Questo aspetto Che poi dall'altra parte C'è un enorme Oceano orizzontale Dove la necessità Di un film O di una narrazione Dove arriva qualcuno E dice No no ragazzo Io l'eroe Cioè nel senso Non so che magari C'è stato Che eravamo tanti No no so proprio io Cioè venitemi dietro Tranquilli E vi proteggo io In qualche modo È un paradigma Scritto del nostro DNA Che noi stiamo lottando Giustamente dice Violetti Ha ragione Per emanciparci Diciamo per crescere Come specie Però in effetti L'abbiamo inventato Noi il viaggio dell'eroe Cioè nel senso Viene proprio dal profondo Non è che qualcuno Ce l'ha imposto Il concetto interessante Secondo me È vedere più che altro A livello storico Che cosa è successo Nel senso Che è una cosa Che noi abbiamo fatto Anche la puntata Sui villain E ci siamo resi conto Che a livello storico La storia umana È andata a pari passo Con l'evoluzione del villain Se ci pensiamo Un attimo Di fatto Aspettate Prima di passare al villain Voglio dire una cosa Di come sto Dicendo che si stanno Scannando Anch'io La compagnia dell'anello In chat Si parla di questa cosa La compagnia dell'anello Sono novi eroi Novi eroi Gli anelli Eccetera eccetera Secondo me Dico la mia Così mi massacrate L'eroe è uno solo Al massimo due L'eroe è Frodo Più che altro È Sam Che è solo sopporto Qua ditemi voi E' come dire Che nel nuovo testamento Sono dodici eroi Esatto Cioè nel senso Si ci sono dodici eroi Come dire Perché sono dodici personalità Però l'eroe è uno Diciamo in qualche modo Quindi non è che non ci possano Essere storie di gruppo Diciamo Corali in questo senso Ma l'eroe sai sempre chi è Diciamo Non è che c'è un dubbio Esatto Sì è un po' diverso Infatti Ma quindi è Frodo O è Sam Che solo sopporta No è Sam È Sam L'eroe del signore Per me è Sam Ma no è Frodo Ma va Ma no è Frodo Sam è l'aiutante No? Eh vabbè Il canzico del fantasy L'aiutante Eh vabbè Volevo Volevo parlarvi Della questione È la linea comica È la linea comica Bravo bravo Martellone 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 Allora No volevo parlarvi A livello storico Perché ci siamo resi conto Quando abbiamo parlato Della puntata Eh a tema villain Probabilmente di recuperarla Perché è stata veramente Molto interessante Eh la storia Dell'essere umano È andato a vari passo Con l'evoluzione A livello Cinematografico Ma in generale Culturale Dell'evoluzione Dei personaggi Cioè Molto banalmente Perché l'eroe Degli anni Ottanta Anni settanta Eh anni cinquanta È un eroe Unico Ed è un verbo Punto di riferimento Perché in quegli anni Se ci Se si fa un piccolo pensiero A livello storico Era un momento Di gravissima Eh crisi C'era la guerra fredda E c'era bisogno Di avere una figura Era chiaro che era il nemico Esatto Era chiaro che era il nemico E c'era bisogno Che a quel nemico Si contrapponesse Una figura Alquanto chiara Il problema è che Con la crolla Con il crolla Del mondo In Berlino Quindi dall'ottantanove In poi Gli eroi Hanno sempre Di più perso Questa chiarezza A mio avviso Cioè Sono sempre diventati Molto più sfumati Ed è sempre difficile Forse anche questo Che Per cui c'è Questa sensibilità E quindi l'eroe Sì è eroe Però c'ha sempre avuto Quel difetto Fatale Il famoso fatal flow Che lo portava A compiere Quell'azzo eroe No quella cazzata Che te devo dire Molto banalmente Spider-Man Ha fatto uccidere Lo zio Ben C'erano due eroi Cioè Il concetto è che È diventato Che poi è una cosa Che c'era in certe Tradizioni orali Antichissime Perché se prendiamo L'Iliade L'Iliade in realtà All'eroe A chi Che non vuole entrare In battaglia E È rifiuta la chiamata Di entrare in battaglia Finché non uccidono Padre Diciamo in qualche modo E ha il tallone D'Achille appunto Come noi chiamiamo Il fatal flow Quindi proprio La pecca fatale L'unico punto vulnerabile E via dicendo E però c'è anche La storia di Ettore Che si trova alle porte Della sua patria Migliore del guerriero Degli Achei Quindi adesso è costretto Come dire A confrontarsi Ognuno è il villain Dell'altro Però entrambi in realtà Sono due eroi A modo loro Quindi quello A cui stiamo andando Secondo me È Uscire da un periodo Di Costruzione Di cattivi Da cortina di ferro Appunto Cioè da Tespiezzo in due Perché È quello Che Diciamo La narrazione Imperante Americana Sostanzialmente Che vedeva E prima ancora Del dopoguerra O della guerra mondiale Che vedeva Ogni tanto ci perdiamo Benzoni E Tolti muri Tolti Ah niente Prof Ti abbiamo perso Ti abbiamo perso Vabbè no Vabbè il concetto Che però In che luogo In che zona Del pianeta sei Eh non lo so Più che altro Che gestore c'hai Eh che gestore c'hai Anche No sto in una casa Che da un lato Prende e dall'altro No Ah wow Pazzesco Fibra c'ho ragazzi Arrivo subito Va bene va bene Ma vicino Però il concetto Credo che volesse Dire lui è Che una volta Nel momento Culturale Di più grande Terrore Quindi quello Di una possibile Terza guerra mondiale C'era bisogno Di avere Un punto di riferimento Oggi il punto di riferimento Forse un po' Si è perso Ed è per questo Che andiamo a costruire Eroi fragili Eroi poco chiari Eroi che hanno comunque Quel fatal flow Non nel tallone Ma in qualche cosa Di interno Che hanno vissuto E quindi si è Paradossalmente Si è molto più eroi Internamente Che esternamente Così come non c'è Un verbo più cattivo Se ci pensate No non c'è Il cattivo Il cattivo è sempre diventato E questo ne sono In esempio Anche i film di supereroi Un concetto Estremamente labile Il cattivo ha sempre Una motivazione Molto giusta A volte E poi magari Alla fine Se ne pente pure Cette volte Oppure torna indietro In Ivan Drago Raga non c'è un pentimento C'è lui che si incazza Con la moglie Probabilmente L'ultimo Adesso forse esagero Però l'ultimo Cattivo L'ultimo villain Che il cinema Ci ha regalato Magari è il Joker Di Del Cavaliero Oscuro Cioè quello Era stronzo Perché voleva essere Stronzo Punto e basta Alcune persone Vogliono solo Vedere bruciare il mondo Punto e basta Cioè senza troppe Spiegazioni E senza troppi Perché Senza troppi motivi L'anarchia Perché poi quello è L'anarchia più totale Ma quanto so più fichi Cattivi degli eroi Beh dipende Degli eroi Dal punto di vista Di personaggi suoni E lo dici Ne parlavo L'altro giorno Gabriele Mainetti Che lui ha fissato Che i cattivi E si vede E si vede Infatti sono quello Che gli vengono meglio Sono i personaggi Che gli vengono meglio In assoluti Perché voglio dire Franz Mi sembra Il cattivo Di Frick's Out Il personaggio Più interessante Il film Assolutamente Il personaggio Più sfaccettato Più completo Più affascinante Perché lui li ama Proprio i cattivi C'è un revisionismo Del cattivo Quasi Nel senso Deve raccontarlo così Io personalmente Devo essere sincero Pur amando i cattivi Appunto preferisco Un cattivo Non tanto Perché il concetto È che secondo me Si perde Il fatto che il cattivo Ha una Ha una funzione Nell'essere L'ombra Quindi la cosa Che l'eroe deve affrontare Cioè se il nostro eroe Deve affrontare Il fatto che È un Un po' fissato Con Con l'ordine E con Tipo Batman No? Le linee dritte Li dobbiamo Mandare contro Cosa esattamente L'opposto Cioè l'appeso Direbbero come Nelle carte dei tarocchi Quello appeso Al contrario Che è rivolta All'ordine sociale Che è il caos Personificato Che è l'anarchia Che è il contrario E quindi In questo senso Mi piacciono cattivi Che sono meno Magari con meno sfaccettature Ma più chiari Nel Nell'intenzione Nel messaggio In qualche modo Sì Nelle intenzioni Che portano Sostanzialmente Vì tu che ne pensi? Quest'evoluzione Dell'eroe Ti piacciono più i cattivi Più gli eroi Gli eroi dal punto di vista positivo In questo caso I cattivi effettivamente Ci sono produzioni Che stanno spingendo Per quasi disperderli In un certo senso E consideriamo anche Che abbiamo vissuto Stiamo passando Forse tra un po' Non più Un periodo in cui Non abbiamo avuto Un cattivo Veramente polarizzato Polarizzante Diciamo E questo Cattivo Si è Come smembrato Sui social stessi Cioè adesso Ci sono dei gruppi Di cattivi Ok Nel mondo reale Intendo C'è una collettività Di cattivi Si parla molto di più Per esempio Di tematiche Come il cyberbullismo Di gruppi veri e propri Che attaccano Il campidoglio In America Quindi Gruppi politicizzati Quindi Invece prima Magari era più Una roba tipo Che ne so C'erano tutti quei Contenuti americani Che la Russia È il cattivo Sempre e comunque Che adesso L'ha sempre visto Quasi come si Ha riportato in auge Di fatto vero Hai ragione Perché Se pensi a misterio Come concetto Esattamente questo Cioè disinformazione Gruppi Organizzati Che manipolano la realtà Che ti fanno credere In qualche modo Una cosa per l'altra Cioè esattamente Che si raccontano Come l'eroe Invece sono il male Cioè è proprio Lo spirito smundido Il momento Esatto E quindi Si è Ridistribuita La responsabilità Del cattivo In un certo senso E infatti Misterio L'hai citato È un bel esempio Perché a me era piaciuto Davvero tanto Secondo me È stato un ottimo Cattivo In questi nuovi Spider-Man Perché mi piaceva molto Questo concetto Che portava appunto Che hai spiegato tu adesso E in tanti film Come dicevi tu prima Gianni Invece Molto più spesso Siamo più interessati Al cattivo Che è dentro di noi Cioè A un'ombra Che non è più Al di fuori Come Joker O come altri Ma all'ombra Che alberga Dentro di noi E infatti C'è adesso Tutta una serie Di ultime uscite Tra Disney e Pixar Che hanno proprio Cancellato La figura Del cattivo classico Che noi ricordiamo Negli anni 90 Che erano Jappar Scar Questi cattivi iconici Adesso ci sono Alcuni nuovi classici In cui non c'è Un cattivo visibile Ma c'è un cattivo astratto E mi viene da pensare Anche a Come si chiama Raia è l'ultimo drago Raia è l'ultimo drago Dove il cattivo È un cattivo astratto E si parla Praticamente di ecologia Di animali in estinzione Capito A questo fumo viola Che no Anche regge Si ci pensi un po' Anche Red Red è un bellissimo Viaggio dell'eroina Della protagonista E Red Discende nel suo Nel suo mondo Nel suo mondo interiore Nel suo mondo Poi è un camino veggio Ovviamente Però Nel suo mondo Del passato Nella Nella La matrioska Matriarcale Diciamo Della generazionale E lei deve andare A spezzare Quelle catene Per poi Andare All'avventura Che è al di fuori Del focolare Domestico In un certo modo Quindi il cattivo È sconfiggere Praticamente Una tradizione Passata In qualche modo Una roba Che abbiamo visto Imitare A Miss Marvel Ad esempio Che però Purtroppo Miss Marvel È naufragata prima Perché non arrivano Pino in fondo A questa cosa Purtroppo Miss Marvel Si perde Perché Secondo me Viene chiusa Troppo in fretta Però a parte questo C'è una cosa All'inizio Che imita Red Siamo figli In qualche modo Della psicanalisi Cioè Penso che oramai Con la psicanalisi No Che è così Ha preso così piede Effettivamente Perché La questione Del viaggio eroe Tant'è che Viene utilizzato Lunghianamente Dagli lunghiani Proprio In psicanalisi È che Di fatto Il percorso Con il quale Noi parliamo Possiamo articolare La nostra trasformazione Interiore Quindi appunto Il cattivo In realtà È una funzione Di noi Che dobbiamo Integrare Alla fine C'è l'individuazione Diciamo Il percorso L'individuazione Jungiano Nel momento In cui la psicanalisi Diventa accessibile A tutti Quindi non è più Necessario Tra virgolette Manifestare Attraverso il mito Quelle che sono Le nostre paure Perché Oggi Oggi Paramente Leggevo Di Saturno Che divora i suoi figli E Giove Poi è quello Che invece ce la fa Di fatto Quindi è un padre Qui viene detto Che verrà spodestato E per questo Divora I figli Che genera Cioè praticamente Quello che potremmo dire Il ricambio generazionale Cioè nel senso Detto in una maniera Come dire Impropria No Un professore universitario Che non fa mai Salire di grado Di assistenti Cioè è di fatto Un Saturno No Finché uno Non gli dà impasto Una pietra Quindi si finge Una pietra Quindi si finge Più dura Non è la crono Scusa Forse è crono È crono È crono È crono È crono Perché stavo Molto bello Il parallelismo Che è crono Che mangia I figli È crono In greco Significa tempo Il tempo Il tempo Il tempo Ma quindi Secondo me Questa figura Per cui diciamo Che insomma La mitologia Ci faceva esternare Scusa Ci faceva esternare Quello che Passaggi interiori Adesso Come dicevi Violetta Passaggi interiori Sono esplorabili E quindi Il cattivo È dentro di noi Di quello Ma quindi Anche la figura Dell'eroe Secondo voi Cambia O comunque Il modo in cui Noi inquadriamo Questo eroe In una storia Cambia Cambierà Sta cambiando Sta evolvendo Sta cambiando Perché è l'eroe comune Prima era Prima si parlava appunto Ci dava Gianni L'anti-eroe Cioè Quello che aveva Le caratteristiche Opposte all'eroe E quindi Era tutto L'opposto Adesso in realtà È il non-eroe In qualche modo Nel senso che Non è L'everyman Non è uno Che è anti-eroe Cioè L'anti-eroe È quello Appunto Un ladro È l'anti-eroe Però il ladro Che diventa eroe È una Però in questo mondo Di supereroi Perché stiamo vivendo Questo periodo Di Che è una cosa Molto indicativa Saranno 5-6 anni E siamo pieni Di supereroi Non sappiamo più Dove metterceli È possibile Cioè Sta avvenendo Questa cosa Cioè In un mondo dove È la persona super strana Ed è immediatamente Identificabile Poi nel caso di No Endgame L'altro Impeddy War Come dice Gianni Secondo lui L'eroe Non sono tanto I veri supereroi Ma quanto Thanos Per quello che sta facendo Eccetera A livello strutturale È scritto così Poi A livello strutturale Io penso che Tu senti Quella storia A livello strutturale Secondo me La vera lettura Di quello che sta accadendo E sta iniziando Ad accadere In questo periodo È The Boys Cioè Il momento in cui La sovrapposizione Tra eroi E star system Diciamo È talmente Precisa Che allora Far pagare le conseguenze A questi modelli Sbagliati Di masconità Di femminilità E quindi In qualche modo L'eroe È l'everyman Che però In qualche modo Se ne fotte Decide di dare Di ammazzarli tutti Quindi tu dici Che si passerà Arriverà il momento In cui li ammazzeremo tutti Sti supereroi Ma Più che altro The Boys È un bellissimo esempio Io vado matta Per The Boys Perché È bellissimo Proprio questo È il fatto che Stiamo mettendo In discussione Le persone In una posizione Di privilegio In una posizione Di potere Cioè Una volta L'eroe Dieci anni fa Quanto tempo è stato Era Iron Man Che era Un elite Faceva parte Di un elite Era una persona ricca Era una persona potente Ed era anche L'eroe Sì Scorretto Però Romanticizzato Va bene Che è scorretto Capito Invece oggi C'è Patriota E Patriota Invece Che è Al potere Brava Placcia Eccetera La volta Lo star system Come dici tu Anche c'è Diato il meccanismo Hollywoodiano Che invece Viene Ridefinito Ridipinto Come una persona Insana Tossica Non sbaglio Patriota Non è una persona Né ricca Né di buona famiglia Vabbè Però È diventato potente Il parallelismo Potremmo dire Che è un attore americano Un attore americano Di oggi È un superman Pensate Ma anche Tutto quello Che è successo Con il casino Johnny Depp Amber Heard Cioè Di fatto È come se Fossero andati in causa Superman Contro Cioè nel senso È un qualcosa Che ha dimensioni Bibliche Quella roba Quindi questo Umanizzare Questi personaggi Cioè Tirarli giù Dal loro Dal loro olimpo Buttarli in mezzo Alla strada Io di fatto La cosa interessante Che analizzo Nel concetto Di eroi Perché Mi è venuta in mente Questa cosa qui Come dicevi tu Giustamente Oggi siamo pieni Di supereroi Troppi Troppo Un sacco Troppi Anche tutto Sotto alcuni punti di vista Anche se il botteghino Non dice la stessa No Il botteghino Stanno un fisico Detto ciò Comunque In generale È interessante Vedere Quanto siamo Ritornati Alle origini Cioè In un momento In cui Noi sapevamo Chi fosse il nemico Quindi la Russia Abbiamo avuto la possibilità Di creare Eroi Anche un po' Più scorretti Più Particolari Diciamo per certi versi Ci sono Indiana Jones Tutti Che Di fatto È un eroe Ma O anche Han Solo Per farti l'esempio È un eroe Puro Per dire puro È un eroe Comunque Che ha Harrison Ford Harrison Ford È sempre Harrison Ford È proprio L'emblema di Harrison Ford La quintessenza È un po' Sì Per certi versi Come si chiama Air Force One Per esempio Pure Ma oggi Abbiamo forse Bisogno Degli eroi Perché ci dobbiamo Configurare Proprio come si configuravano I greci Con i miti Nei confronti Di una realtà Nuova Una realtà Diversa Una realtà Che sta mutando E di fatto Che ancora Non comprendiamo bene Forse i supereroi Sono il tramite Così come erano Gli eroi Dei racconti Dei greci Il tramite Per vederci Un po' Più chiaro Prima I greci Effettivamente Per spiegarsi Il fulmine E quindi La pioggia Dicevano Oddio Zeus È incazzato E quindi È incazzato con noi Dobbiamo fare in modo Che non si arrabbi più Noi alla stessa maniera Ovviamente in una maniera In un'ottica differente La nostra cultura Si sta approcciando A un nuovo tipo di realtà E forse l'esempio Di questa realtà Più grande Sono i supereroi Che cavalcano l'onda A me la cosa Che piace della Marvel E che purtroppo Non è piaciuta Del DC Extended Universe È che all'interno Della Marvel Si parla di tematiche Comunque in qualche maniera Legate alla realtà Abbiamo fatto il caso Di misterio Si parla delle fake news In quel film Ma anche per dirti Infinity War Si parla della sovrappopolazione Del problema Delle risorse limitate E così via Aveva già parlato Inferno però Vabbè ma quella È un'altra ottica Perché lo sai perché È diversa Perché il supereroe È una cosa che arriva A tutti È la cultura popolare È il mito È quella cosa Che ti pare Che ti arriva diretta E subito Quindi Io trovo più che altro Che forse Più che mettere in discussione Come dire Il concetto di supereroe Paradossalmente Stiamo assistendo Alla messa in discussione Del concetto di comunità Cioè come dicevamo prima L'eroe protegge una comunità È uno Perché c'è una comunità Definita Che deve proteggere Adesso appunto Tutti questi cattivi Interiorizzati È la Come dire Uno vale uno La comunità È l'essere umano Il singolo Che sta dietro Non c'è più Non c'è più Un'America Minacciata Da un asteroide Che sta arrivando Contro E sta uccidendo Bisogna andare E farlo saltare in aria Però quant'era C'è Che ognuno Stacca Esatto Perché c'era Il concetto di comunità Infatti Per questo ci emozioniamo Noi vecchi bavosi Perché siamo cresciuti Comunque con il concetto Di comunità Di uno deve ergersi E sacrificarsi per gli altri E salvarli Che poi insomma Cominciamo il cattolicesimo Adesso è L'eroe Guardiamolo con una lente In granimento gigante Vediamo le sue fragilità Come le affronta Come è umano Come è uno di noi Perché tanto ognuno di noi Vale uno per uno E deve salvarsi da solo In qualche modo Non c'è più Uno che dice Rinuncio alle emozioni Alla famiglia Come Buffy Per salvare La mia comunità E quindi pago Un prezzo altissimo Alla James Bond Insomma Però lo devo fare Magari mi piace anche Per carità Perché sono tutti narcisisti Supereroi comunque Però lo faccio Perché devo In qualche modo Salvare Salvare un gruppo definito Togli il gruppo E l'eroe va In psicanalisi Perché Ed è quello che Sto salvare la stessa C'è Nicola C'è Nicola che dice C'è Nicola Quello che abbiamo visto Anche col Buffy C'è Nicola che dice Stiamo mettendo in discussione Il potere Credo che non sia mai stato Così meno messo In discussione di oggi Al massimo fingiamo Di mettere in discussione Il potere E lo facciamo Di piattaforme Multinazionali Miliardarie Secondo me Tutto Non sono molto d'accordo Con questa cosa Nicola Secondo me è totalmente L'opposto Cioè Determinate situazioni Non sono mai state Messe in discussione Come adesso C'ho la risposta Il problema Lo sai qual è Che prima C'era un capro espiatorio Per tutto Quindi è colpa Se il mondo va male È colpa di quello lì E tu sapevi Precisamente Chi era il colpevole Oggi invece Ci si interroga Più su noi stessi I colpevoli Siamo un po' noi È ognuno di noi Che può fare la differenza Come ognuno di noi Che non può farla Quindi il problema Non è più Un problema Esterno Perché c'è un Il potere Era una piramide Prima Esatto Se arrivava in tv Il presidente della repubblica Diceva Si va in guerra Annaggia Si va in guerra Poi c'era che si imboscava Giustamente Perché era contrario Però La risposta era questa Se succede adesso Ma chi gliel'ha detto A lui che mi rappresenta Eh Cioè in qualche modo Come dire C'è proprio più il concetto Che ci sia una piramide Perché teoricamente Lasciamo stare I concetti politici Però diciamo Pensiamo a JFK A Obama Cioè Chi è a capo della piramide È il migliore Questo è il concetto Che teoricamente Dovrebbe essere In un sistema Che funziona Ecco Mettendo in discussione Quello Se il migliore Ti dice Va in guerra Ci vai Se te lo dice uno Che non ti rappresenta Ma anche il fatto di essere Noi stessi Responsabilizzati In questo periodo storico Nel momento in cui Siamo la causa Della nostra autodistruzione Climatica No? E quindi siamo Tutti responsabili Siamo tutti villain E tutti eroi Nel momento in cui Salvaguardiamo il pianeta Ad esempio E lì C'è poco da dare La responsabilità A un singolo Purtroppo Non lo possiamo fare E quindi si ridistribuisce Anche questa responsabilità In tutti Sì anche perché Qualche anno fa Avrebbero fatto un film Dove c'era il cattivo Che magari Distruggeva le piante Eccetera Invece adesso Non è più così Siamo tutti cattivi Sì sì Siamo tutti cattivi A proposito di questa cosa Non so se vuoi No io volevo parlare Un po' di James Bond Sì ne parliamo tra poco Ma io volevo parlare In realtà di un'altra cosa Molto particolare Perché Fateci caso Per ora abbiamo A parte Violetta Che ci ha portato baffi Però per la più Abbiamo parlato di Personaggi maschili E la mia Domanda e riflessione Su cui volevo Interrogare voi È che Forse la concezione Di personaggi femminili È qualcosa Che Per quanto ci Possono essere Degli esempi All'interno dei film Del passato Uno su tutto Uno su tutto Replay Oppure Infatti per questo Prima dicevo James Cameron Ci avrebbe da rivire Perché nei film di Cameron Ci sono sempre Eroine Connor Lui ad esempio Ma la cosa particolare È che Oggi forse I personaggi femminili Stanno avendo una rivalza Soprattutto dal punto di vista Di eroi Eppure Con Violetta Facciamo un discorso Molto interessante Nei confronti Del personaggio di Wanda Per esempio Quindi volevo chiedervi Questa cosa qui Volevo sentire Inizialmente Violetta Si può Dire che C'è un modo Di scrivere In maniera Magari sbagliata O meno Un conto è quando Scrive un eroe Femminile Un conto è quando Scrive un eroe Maschile Cioè È un tipo di scrittura Che è un po' Ancora Che fa differenze Su alcuni punti di vista Io credo Proprio di sì Diciamo che Il viaggio dell'eroina È diverso Da quello dell'eroe Ma non è detto Che un'eroina Abbia Un viaggio Segua Un viaggio dell'eroina Può anche seguire Un viaggio dell'eroe Sono diversi Perché chiaramente Si basano su due esperienze Sociali Di vita Diverse Le donne Vengono cresciute Impostate E crescono in un modo E a loro Si richiedono Determinate cose Come il piacere E il compiacere Agli uomini Invece Viene insegnato Altro Viene insegnato A Andare Nel mondo A primeggiare In qualche modo Quindi andare All'avventura Mentre l'eroina Per iniziare Diciamo il suo Viaggio verso l'avventura In realtà Deve prima Discendere In se stessa E cercare di rompere Una serie di gabbie Di catene Che gli eroi Uomini Di solito Non hanno Perché Chiaramente A una donna L'avventura Di una donna È il focolare Domestico È il sposare I bambini È il lavoro Di cura Quella è la grande avventura Dei personaggi Femminili No? E quindi Gli viene detto Resta a casa A una donna Viene detto Resta a casa La tua grande avventura È qui Invece All'eroe Viene detto All'uomo Viene detto Vai lì fuori E conquista La tua avventura È lì Capito? È lì fuori Quindi che ne so Ercole in Hercules Capito? È il più classico Degli eroi A cui viene detto Vai Uccidi il mostro Diventa un dio E tutto il resto Invece Per esempio Tu hai citato Vanda Vanda Secondo me È un bellissimo esempio Non in Doctor Strange Ma in VandaVision È un bellissimo esempio È un bellissimo viaggio Dell'eroina Vanda È molto Legata Attaccata È molto Collegata Proprio Anche inizialmente Per suo desiderio Ha una serie di cose Che sono legate Al Voler Assomigliare A una femminilità Canonica Vanda viene da un percorso Molto drammatico E quindi Quello che vedeva Di confortante Per lei Erano le sitcom Americane In cui c'era la famiglia Anni 50 Quindi lei sogna Tutto quello Desidera tutto quello Desidera Piacere Con piacere Ed essere Quel tipo di personaggio Femminile Lì Quella Quella è la sua avventura Infatti nella serie Noi la vediamo Inizialmente Cercare di costruire Questa famiglia Che lei non ha Avuto La bellissima Evoluzione di Vanda Che purtroppo Poi viene annullata In Doctor Strange È proprio Diciamo Andare oltre Tutta questa serie Di barriere Che lei stessa Si è posta Perché È questo Che le è sempre Arrivato E passare Da Vanda A Scarlet Witch Quindi A Maga A strega In un certo senso Però preferisco Il termine Maga In questo caso Specifico Perché Lei È nel momento In cui finisce Vanda Vision In cui lei diventa La Maga Diventa la Scarlet Witch Che lei capisce Che il suo Vero viaggio Non è Nella cittadina Che ha intrappolato Non è Dove si è Intrappolata Ma è diventare Forse qualcosa Di oltre Qualcosa Di più Qualcosa che può essere Di più Per se stessa E anche a quel punto Per la sua comunità Forse Il suo desiderio Di famiglia Era qualcosa Di innestato Infatti Dai programmi tv Che lei guardava Continuamente E non era Quello Che desiderava Cioè Magari era quello Che desiderava Ma non era quello Di cui aveva bisogno Forse quello Di cui aveva bisogno Era proprio Aprire il libro Della conoscenza Il Darkhold Se non sbaglio E scoprire Quanto di più C'è Al di fuori Della piccola cittadina Dove si è Rinchiusa E dove ha creduto Di doversi rinchiudere Per essere felice Quindi lei Il suo La sua vera Evoluzione Una volta sconfitte Tutte queste barriere Inizia alla fine Di WandaVision Per questo Sarebbe stato bello Avere una WandaVision 2 In cui la Scarlet Witch La maga Poi Ci racconta Il suo percorso Nel suo viaggio Dell'eroe A quel punto Sai che mi stai facendo Rivalutare Dottor Strange In maniera Molto negativa Perché Questa cosa Ecco Perché No ti spiego Perché questa cosa Di WandaVision Più lo critichi Più mi piace Esatto No però Aspetta Dal punto di vista Di WandaVision Perché questa cosa Che tu dici Che c'è alla fine Di WandaVision Sul personaggio di Wanda Effettivamente È fichissimo È bellissimo Cioè il voler uscire Da quel L'aspetto canonico Che deve avere La donna Le eroine Eccetera eccetera E mi sta cominciando A passare per la testa Che invece Dottor Strange Voglia rimetterla Dov'era Esatto Cioè è un po' Sei arrivata Fino a questo Sei arrivata Fino a questo punto Hai avuto Questa evoluzione Hai capito Questa cosa No Ritornatene a casa Dai ragazzini Qualcuno pensi Ai bambini Esatto Perché Esatto Perché BandaVision In Dottor Strange È come se venisse Resettata Perché lei torna All'inizio del suo lutto E lo ricomincia da capo Quindi lei rifà Lo stesso percorso Ma In chiave villain Quindi In questo caso Lei viene Diventa il mostruoso femminile Diventa Una madre Mostruosa Che Divora Tra virgolette I suoi bambini Diventa Lo spauracchio Di tutti E poi c'è Colui che la deve Rimettere a posto O la medusa O medea O la medusa Tutti questi Perché Eppure Sì ma anche Ma la medusa Per esempio Non si La storia completa È che lei è stata Violentata Da una divinità Ah giusto Vero Quando è andata Quando è andata A denunciare La sua La sua violenza La moglie La moglie di questa divinità Ha detto Vorrei dire che Plutone Ma magari mi sbaglio E Dice Ah certo Perché tu L'hai chiamato L'hai sedotto Perché lui era un dio Una sacerdotessa Adesso ti renderò La donna più brutta Di tutte Mostruosa A serpente E qualsiasi uomo Guarderai Lo pietrificherai E di fatto È un mostruoso femminile Col trauma Non risolto È quello che dici te È molto Molto bella Questa Questa lettura Della Di Doctor Strange Che è comunque Molto patriarcale E io È scritta Da Ma Però Però attenzione Io non voglio demonizzare Le scritture degli uomini Perché ci sono degli uomini No Assolutamente E voglio citare Spencer Per esempio Che è un bellissimo Viaggio scritto Per questo personaggio Italiana È scritto da In sceneggiatura Stephen Knight E alla regia C'è la Reign Il regista cileno Ed è scritto Con una grandissima Consapevolezza Del contesto femminile Quindi è stupendo Perciò Non è per demonizzare Ah gli uomini Non possono scrivere Storie femminili Non è così ovviamente È chiaro che Alcuni sono più preparati Altri magari hanno Più Sono legati più Ad altri concetti E quindi magari hanno Più difficoltà Sì Magari Non vedono Non vedono il rischio Di mettere in scena Questo Cioè A parti inverse Non ci sarebbe stato Uno potrebbe dire No Se uno calcola Che non c'è differenza Di scrittura Tra un maschio E una femmina Non c'è nulla di male A dire che uno Viene riportato Inizio il suo lutto E diventa un villain Comunque Non volevo interromperli È arrivato un ride Da parte di Riccardo E Francesca Ciao ragazzi Grazie mille Per tutti Non arrivati Ragazzi oggi parliamo Della figura Dell'eroe in generale Adesso siamo arrivati A parlare Dell'eroina Nel senso di Eroe femminile E non Quell'altro senso Ho capito Un tempo Mai di Specifichiamolo Per Twitch Un tempo Mai di Per esempio Stiamo parlando Stiamo cercando pure Di introdurre Il discorso Di scrittori O comunque Registi Anche maschili Che lavorano Molto bene Con la figura Dell'eroina Dell'eroe al femminile Ad esempio In chat Ronald Raggi e Baggi Ha tirato fuori Luc Besson Dove Per esempio Nel quinto elemento Dove C'è l'eroe Ma c'è anche L'eroina Che è il personaggio Di Mila Jovic Tra l'altro Meravigliosa E bravissima In quel film Dove Oltre a essere Un'eroina Molto forte E anche Estremamente fragile C'è questo gioco Molto particolare Che fa Luc Besson Come lo fa In Nikita In Nikita Sostanzialmente Forse Forse Nikita È ancora più Sì In Nikita Forse è ancora più Più a fuoco Ma alla fine Anche Leon Anche Leon Perché il personaggio Di Matilda Sì In parte È molto forte Dentro Leon Ed è lei Che fa compiere L'arco narrativo Diciamo L'arco di trasformazione Al personaggio Di Jean Renaud Cioè È paradossalmente Lui che salva lei Da qualcosa di fisico Mentre lei Che salva lui Dal punto di vista Psichico Potremmo dire Esatto E lo accompagna La morte Che è un grande classico Questo La donna si occupa Dell'emotività Dell'uomo L'uomo si occupa Della protezione fisica Diciamo Una proprio primordiale Direi Quasi Quindi È comunque Una scrittura Un po' vintage Però Le onne Degli anni 90 Comunque Infatti direi Che sono Di persone Più nella Esatto È più nel fatto Che come dire Mette in scena Delle donne Delle donne Che fanno Anche azioni Che fino Magari A quel momento Non erano Propriamente State messe in scena Su un personaggio Femminile Sparare Per picchiarsi Mentre Da un punto di vista Infatti Giustamente Violetta ce lo ricorda Da un punto di vista In realtà Di personaggio Sono molto ancillari Sono personaggi Che servono molto A Sostanzialmente A salvare Degli uomini Un film Con la loro Morbidezza emotiva Diciamo in qualche modo Un film molto interessante Sotto questo punto di vista Allora è Atomica bionda Non so se l'avete visto Quello con Charlize Theron Che è Pazzesca Atomica Atomica Scusa Vai Finito Era proprio questo Volevo citarvi Atomica bionda Finito Atomica bionda È molto bello È molto divertente Secondo me Da guardare Per Una Una donna Quindi Perché comunque Ci vediamo rappresentate In una maniera Abbastanza inedita No E mi piace molto Al tempo stesso Atomica bionda È Un Un uomo Con due tette È una non donna È Rifiuto del femminile È scritto esattamente Come Si scrive un eroe Cioè un uomo Un personaggio maschile Di quel tipo Come si scrive John Wick Solo che ha il seno Praticamente Comunque Come più Non lo so 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 Ma più Alien Forse Nel suo Arco Completo Perché non è che c'è Il rifiuto della femminilità In Alien C'è un po' Entrambe le cose Diciamo Sono un po' Entrambe Sia la femminilità Esplorata Parlo di tutta la trilogia Insomma Di replay Ecco Ma C'è un po' Tutto James Cameron Ripeto L'ho detto Fino a morire È un po' Più Diciamo Quello che si è Dedicato Un po' Di più Alle storie Dal punto di vista Femminile All'eroismo Dal punto di vista Femminile Avatar Avatar A me non piace Ma è lei che salva L'uomo E lei che salva Le più volte Eccetera Anche in Titanic È un po' Diverso Però è un po' Più Incentrato Di lei Come Terminator In tutto e per tutto Sarah Connor È una persona Che cerca Di salvare La comunità Fino a sacrificare La sua vita Per salvare La comunità Quindi passare Per la matta Tra virgolette È detto Proprio la cosa giusta Adesso La matta Considerate sempre Quando leggete Un personaggio Femminile Controllate sempre Se quel personaggio Femminile È attivo O passivo Perché a volte Magari si può avere L'illusione Che stia Attrainando la storia Quando invece È soltanto Una funzione Che aiuta Il character development Del personaggio maschile Ovviamente Adesso faccio un esempio Molto estremo Chiaramente Però Esiste il famoso Stereotipo Della ragazza nel frigo Che viene Tra l'altro Da Forse Gianni tu Magari lo saprai Meglio di tutti Perché viene proprio Dai fumetti Di Lanterna verde Questo esempio Sì In cui appunto Lui C'è un episodio Io non l'ho letto In realtà Però conosco Questo stereotipo E c'è questo episodio In cui lui trova La sua fidanzata Che è stata brutalmente uccisa Dal cattivo E messa in un frigo E in quel momento Allora Lui C'è il classico Che si arrabbia E diventa Un revenge Penso una storia Revenge O qualcosa del genere Quindi Per esempio Molto spesso I personaggi femminili Vengono utilizzati Solo in questa maniera Sono sempre Tantissimo Stati Come pezzi di carne Diciamo Da sacrificare Da vittimizzare Solo per fungere Da detonatore Come hai detto tu Per l'inizio Dell'arco narrativo maschile Quasi tutte le fiction Poliziesche italiane Per esempio Visto che noi Non abbiamo il pathos Sulla legge Sulla giustizia Ma abbiamo il pathos Sull'amore Diciamo Vedono il commissario A cui gli viene ammazzata La moglie E in quel momento Decide che sì Il boss la pagherà Che sì Il distretto di polizia Pensate a Cioè c'è un È un detonatore Ma in realtà La piovra Per citare anche Roba vintage Però diciamo Sono È un momento Molto importante Proprio Il sacrificio Che poi Quello che si chiamava Lo stake character Cioè la bella da salvare Quando uno dice La dumpster in distress La fonna legata Mi sta appena vendendo in mente Un film invece Dove succede tutto l'opposto Che è un film Di Jean-Pierre Genet Che si chiama Una lunga domenica Di passioni Dove c'è lei Che cerca Comunque cerca Questo ragazzo Il suo ragazzo Che è andato in guerra E Lo cerca Per salvarlo Praticamente E alla fine Lo trova In un ospedale Che era Dove era finito Causa ferite di guerra E Lo salva Diciamo Da un certo punto di vista Perché lui aveva perso La memoria E quindi lei Succede tutto off screen Nel senso Però Alla fine Nel voice over Ti dice che Praticamente Ti fa capire Che lei adesso Poi lo riporterà A casa E eccetera E quindi Lo ha salvato Gli salverà A me Paradossalmente Mi ha colpito molto Dal punto di vista La scrittura Red Perché è un film Che è proprio Contro Il vero La vera e propria Chiusura All'interno di una Cate Anche di abitudini Che possono venire Dalla cultura Rispetto a questo Personaggio protagonista Senza fare Neanche troppi spoiler Questo personaggio Protagonista Tra piccolette Dei superpoteri Ma naturalmente Questi superpoteri Non vengono accettati Dalla famiglia O meglio Lei non vuole Neanche rivelarle All'avere propria famiglia E ho visto in Red Forse Quel motivo Di rivolsa Di riuscire A trovare La nuova strada All'esterno Della famiglia stessa Non per forza Abbandonandola Ma Riuscendo a mantenere Entrambe queste cose Qui Forse Red Mi ha colpito In senso positivo Per questo Sì Red È proprio Un classico Dell'emancipazione È proprio Un coming of age Di questa ragazzina Però È proprio Un classico Dell'emancipazione Femminile Rispetto a una famiglia E ai dettami Di questa Tradizione matriarcale Che poi ha sempre Comunque le basi Nel patriarcato Però Sono tutte Una sequela Di personaggi femminili In questo senso Che sono una conseguenza Di una società patriarcale La cosa però Veramente figa Ti posso dire Di Red Non è tanto questo Che carino Interessante Giusto E mi è piaciuto tantissimo Ma la cosa Veramente rivoluzionata Di Red È il fatto che Red è una storia Di teenager Anzi forse Anche neanche teenager Forse lo sono ancora più piccoline Come ne abbiamo viste A bizzeffe Da un punto di vista Di un gruppo di eroi maschili E invece qui sono Tutte ragazzine E quindi È a un punto di vista Molto femminile Molto anni 90 Molto da ragazzine Degli anni 90 Perché l'autrice Le autrici Che hanno lavorato A questo prodotto Sono di quegli anni Quindi più o meno Alla nostra età Alla mia almeno E Praticamente Questo prodotto Cerca di raccontare Quel periodo Della preadolescenza E dell'adolescenza Da un punto di vista Femminile Cosa che O non viene mai fatto O se viene fatto Di solito viene fatto Con scar Dandogli scarsa dignità Rendendolo Un prodotto Superficiale Un prodotto sciocco O comunque Un prodotto Che anche se buono Magari dal di fuori Soffre del forte pregiudizio Che i prodotti Destinati E che parlano A un pubblico A un target Principale Femminile Siano dei prodotti Inferiori Dei prodotti Sciocchi O superficiali Noi mitizziamo Tantissime Commedia Tantissime Eh? Mi avete definito Il ciclit No? La ciclista La letteratura Da ragazzette Esatto Per lo stesso motivo Per cui I maschi Non leggono Piccole donne Capito? Però aspetta Volevo parlare Di una cosa Al contrario Adesso dirò Una cosa Che mi farà odiare Da tutti Però è Esperienza Di vita vissuta Può essere Che determinate cose Cioè questo Concentrarsi più Sul mondo maschile Sull'eroe maschile Eccetera eccetera E' dovuto anche Da una questione Di semplice Puro e mero mercato Per dirti No Quando sono andata A vedere No sicuri Perché quando Siamo stati Dopodecisi Aspetta Aspetta Non sto parlando Di un piano sistemico Perché la donna Non si deve emancipare Sennò chi li fa i figli No perché Stavo pensando Non per parlare Di una roba attuale Però quando sono andata A vedere io Lo Spider-Man Di Raimi Al cinema Eravamo Nel mio paese Quindi c'era Una quarantina Di persone Più o meno Non c'era una ragazza Dicesi una Se adesso Tu vai a vedere Spider-Man Al cinema Una cosa del genere Non la noti Neanche più No questo Sì però Questo è vero E' quell'annoso Problema di dire Se tu non hai mai fatto Un prodotto Che parlava A un pubblico Giustamente Ok allora E' questa La spiegazione Cioè nel senso Se i pupazzetti Di Spider-Man Servivano a lanciare Le granate esplosive E le Barbie Servivano a pettinarsi Capito Giustamente No perché Volevo rispondere Chiaro che Zendaya è un personaggio Forte all'interno Volevo rispondere Anche a questa cosa Che si lega A quello che diceva Violetta Prima sul discorso Che la donna Era sempre relegata Da una parte In una scatoletta Eccetera eccetera Come la ragazza Nel frigo Quindi di conseguenza Le storie parlavano Di più a un pubblico Femminile E di conseguenza Le donne erano Proprio interessate A determinati Tipi di storie Beh per anni I fumetti No per anni I fumetti Sono stati Per dire fumetti Perché parliamo Di una Di eroi dei fumetti Sono stati Una prerogativa A pannaggio E parlavano A un pubblico Rettamente maschile Ma non è Cosa è Dato così No ma non è Dato così Parlo della Golden Age Non parlo Però adesso Da persona Che ha scritto Una tv sui supereroe Devo dire Ma Wonder Woman Che nasce Nel 1900 239 Ma Wonder Woman Ma come la vestivano È vero Cioè nel senso Il problema è La sessualizzazione Come Xina Uno può dire Sì Xina Che tanto Tanto ha dato Comunque Come contributo Ad alcuni Al cambiamento Di alcuni Stereotipi Sul femminile Ma comunque Xina Andava a giro Insomma Con un costumo Il suo corpo Veniva molto eroticizzato Beh sì Cosa che Stiamo vedendo Sui corpi maschili Oggi È vero C'è una female gaze E anche Che spesso Conci coincide Anche con un queer gaze Sui corpi maschili Oggi Però Si sta facendo caso A questo Prima c'era Solo il male gaze Sì Prima il maschio Non si era mai preoccupato Di come si vestiva Di come si C'era la barba O no I capelli Acconciati O no Era un maschio Cioè non era Sua Quindi va bene Così come Vista Vi dicendo una cosa Doveva portare soldi a casa Doveva lavorare Doveva fare delle cose Che non è che fossero da nulla Perché sennò poi sembra sempre Che i maschi Stavano lì seduti Certo No lo dico perché Se no si demonizza il maschile E non si fa Non si fa da nessuna parte Se non ci aiutate pure a noi A riposizionarci È vero È un casino Ma infatti Noi avevamo la pressione Di trovare un lavoro buono Di avere È tratto Bravo Che era una pressione Ma infatti Io sto adorando Sto adorando le rappresentazioni Che dall'altra parte Riscrivono il maschile In una chiave Di questo tipo Mi ricordo Come si chiama il film Che è andato agli Oscar Però non quest'anno L'anno scorso Con i protagonisti coreani Ah Parasite Parasite No Quello là in macchina Drive my car Ah No Quello è giapponese Eh vabbè Ciao I loro che sono degli Immigranti coreani in America Minari 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 Per esempio su Minari C'è un racconto C'è il racconto molto interessante Della pressione Che il Pater familias Diciamo che il capo famiglia Ha In questo senso Tutto il discorso Che lui fa A suo figlio Sui pulcini Che i pulcini maschi Sono inutili Se non primeggiano Eh E ovviamente poi si rifà Al fatto che lui sente Tutta Un Un Senso di inadeguatezza Nel non riuscire A colmare I suoi doveri Imposti Dalla cultura Patriarcale E quindi portare a casa Eh Una Il pane Eh Guadagnare Eh Dare una casa Vignitosa Alla sua famiglia Tutte responsabilità Che sono sull'uomo Queste Per quello Poi mi piace molto Anche Il discorso Della Raccontare Il mondo Della vulnerabilità Dell'uomo Come non qualcosa Da ridicolizzare O da deridere Perché sempre è stato Ridicolizzato E deriso L'uomo vulnerabile Sì è vero Ma come qualcosa Da esplorare Invece L'uomo non può essere Eh Dottore C'è proprio un tema In America Nel anni 50 Soprattutto si moriva così Perché Perché non andavano Dal dottore Dici Do Gli ha fatto Per dieci anni Gli ha fatto male Una cosa Ma non poteva andare Perché accettare La vulnerabilità Era un tema Per Per quello Poi mi piace Questo Batman Che Lo vediamo Che ha le vertigini Lo vediamo Che sbaglia Che inciampa Che pia Perché se un supereroe Come Batman Che è proprio Un simbolo di masconità Tra l'altro Per eccellenza Se un ragazzo Che va a vedere Quel Batman Vede che addirittura Un supereroe Si può permettere Di essere vulnerabile Allora forse Lo posso fare anche io Che sto guardando Quell'eroe Che mi posso Identificare In lui E quindi Mi piacciono molto Mi piace molto Come stanno Scrivendo I personaggi femminili Per verso L'emancipazione Verso Il loro Posto Un possibile posto Nel mondo Di potere E come Esplorarlo Attraverso Un female gaze E come invece Stanno emancipando Gli uomini Verso la loro emotività Verso la loro vulnerabilità Che non deve essere Ridicolizzata E resa come qualcosa Che li rende Deboli E Meno potenti Virilmente Esatto Uno di questi personaggi Che sta cambiando Parecchio Da quando È stato creato Soprattutto Nell'ottica Di questa cosa Che stai dicendo voi È James Bond Ebbè Di questo io ne volevo parlare Quando abbiamo portato Con Gianni Perché io ho odiato L'ultimo film Di James Bond Credo che sia il più brutto film Di James Bond Mai creato Nella storia Di film di James Bond A partire dal fatto Perché Remy Malek Può anche essere Bravissimo Ma il villain Di quel film È abbastanza inesistente E poi perché Quello non è James Bond Parliamo di una cosa Che secondo me Questa è una tematica Che può essere racchiusa In una frase Che è quella proprio Guarda casa di Batman O muori da eroe O vivi tanto a lungo Da diventare il tentivo Cioè Il concetto paradossale È diventato Che La concezione di eroe Si evolve E tu non puoi Rimanere saldo In una concezione Di eroe Del passato È un po' Un discorso Che noi abbiamo fatto Mi sa Più volte Anche con te Violetta Non mi ricordo Per quale film Nello specifico Per quale serie Però ne abbiamo parlato Nel venerdì Questo me lo ricordo Sicuramente Cioè il fatto Che molto spesso Si va Diabolic 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 Cioè quello che voglio dire io Per quanto un personaggio Può avere una cultura E quindi sono stati fatti i romanzi Negli anni trenta Ma C'è bisogno Comunque di Analizzare E soprattutto Adattare Dal punto di vista del cinema Quei personaggi Alla contemporaneità Vederli con l'occhio Di una cosa contemporanea La mia domanda è Non si può semplicemente Interrompere Perché magari Quel personaggio Non fa più parte Cioè ormai Il personaggio Vive in un tempo Che non è il suo Secondo me Dillo a chi si è comprato I diritti Ciao Ciao Jeff Bezos Che si è comprato Ma io la dite Ma l'avevo comprato No si può interrompere Non so se Voi l'avete visto L'ultimo James Bond No Violetta Non l'ha visto Ma se l'ha visto Non è James Bond Quello lì Cioè è quello che vuoi Ma non è James Bond In realtà è una grafica Chiaramente le cose Di cui parla Violetta Il problema Diciamo Di un maschile Che ti Ti dà Dei 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 blocchi Diciamo no Per cui devi Ci ho messo tempo A riconnettermi Alla mia emotività O a riconnettermi Alla mia Appunto Alla mia fragilità Per cui Figurati se non empatizzo Con questo E James Bond Effettivamente È sempre stato Per me Un simbolo Di quella Virilità lì In qualche modo Non era Non una persona Cattiva Ma una persona Appunto Che era Vetturiero Sempre elegante Nulla Allo scuola Gli potevano spartare Addosso Qualsiasi cosa Ma c'era sempre Una soluzione Amato da tutti A prima vista Quindi effettivamente Quando ho visto Questo twist Diciamo Sul Perché poi non è Un James Bond Che inizia Dicendoti Guarda essere diverso Un James Bond Che per mano Ti porta verso Un cambiamento pesante Questo un pochino È l'unica cosa Che si può dire Forse non è stato Il motivo Che ha fatto Un po' Di disservizio Al film Un po' Ho fatto fatica A seguire Perché io ci sto A vedere Un James Bond Chiamiamolo diverso Reinventato Ma già Casino Royale È diverso Ma come può essere Batman Esatto Che è reinventato Ma non è un Batman In cui noi iniziamo Con Christian Bale E poi a un certo punto Christian Bale Comincia a versere Il singhiozzo Non so come dirsi Cioè nel senso Quel Batman È un altro Batman Questo James Bond Sarebbe dovuto essere Un altro James Bond Cioè identificarlo E portarmi al cinema E farmi sedere sulla poltrona Con Il concetto Che vedrò Che sentirò Perché queste sono Storie di conferma Cioè nel senso Vai per sentirti raccontare Una storia che di fondo È uguale Sempre appunto Il cattivo Il raggio C di mondo E la vittoria finale Quindi vado per essere Assicurato E invece vengo messo In discussione E non vado sapendo Che sto vedendo Un take diverso Su un eroe Questo secondo me È una cosa Che non si può fare Allo spettatore Proprio perché È lo spettatore Comunque Stringiamo un patto Diciamo Di portarlo con noi In una storia Per cui Sarebbe come vedere Un James Bond Che a un certo punto Salta fuori Che in realtà Daniel Craig È in coma Ed è un impiegato Delle poste Però c'ha questi suoni Di gloria Capito Il remi male Più o meno Quello è successo Più o meno Era un po' Stai tradendo La mia fiducia In qualche modo Non è Non è quello Che ho confirmato Quando sono arrivato Insomma Nel viaggio Effettivamente Se è così Che hanno sterzato Capisco Quale può essere Stato il problema Perché per esempio Con il Batman Non hanno Preso Christian Bale Occhi per lui C'è stato prima Ma quando io ho visto Il film In sala Io ero molto scettica Su Robert Pattinson Sono onesta Perché ho detto Ma Robert Pattinson Ha quell'avvolto Ha quel physique du role Può essere il Batman Come l'ho conosciuto Fino ad oggi Quando ho visto il film Ho detto Adesso ho capito Perché hanno chiamato Robert Pattinson Capito Quindi effettivamente Forse Questo restart Questa riscrittura Magari potevano aspettare Di farla Castando un nuovo Daniel Craig Cioè uno che non è Daniel Craig Cosa che per l'altro Non doveva avvenire No no è avvenuto Perché Diciamo che c'è Il passaggio di testimone Ah ok Sì C'è un passaggio di testimone Però un po' Cioè Il problema è che Non è più Quel personaggio In maniera pesante Però il terzo atto Di questo James Bond Sembra Die Hard È vero È proprio sbagliato È un altro personaggio È come dire È improvvisamente Uno che ha Il peluche Dentro C'ha la canotta sporca Il peluche Nei pantaloni Eh Che Per ricordare Quanto in fondo E poi è un film di Natale E sta su Sta rischiando la vita Su un'isola deserta Bombardata Forse da un Da un cattivo Cioè E sembra dire Veramente come in Die Hard Ma io perché Non sono rimasto a casa Invece che È proprio Un cambiamento radicale Va Su un James Bond Che inizia invece Sparando con l'Aston Martin Come tutti i James Bond Quindi insomma Non diverso Ma infatti Secondo me Il discorso è che Più che finire Come dici te È una Capacità di adattamento E no O non ci sono riusciti No Loro non ci sono riusciti Anche che comunque È difficile scrivere film Cioè Assolutamente O due C'è gente No Fa riunioni editoriali Su riunioni editoriali Fa 6 mila stessure Perché pensa Quanta gente Metterà bocca Cioè noi vediamo La firma dello sceneggiatore Diciamo Ah questo sceneggiatore Ha fatto un James Bond Pessimo Chissà quanti editor Possono esserci Su un James Bond Ma infatti Ma infatti Io vi rivelerò Anche questa cosa Violetta Perché Ho un amico Che mi ha rivelato Qual era la trama Originale di Dottor Strange Che è stata cambiata Poi in corso d'opera Però questo sempre Perché Gianni C'ha i miei contatti In realtà Se ti ricordi No 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 Però ti fa capire Come sarebbe dovuto andare Perché si comporta In determinati In una determinata maniera Wanda Poi Poi piacere o non piacere Però in generale Era per me Il più giustificabile Il concetto Era Che Alla fine di WandaVision Se ti ricordi C'è lei Che sente i figli Che dicono Mamma aiutaci Aiutaci Questo perché All'interno di Dottor Strange Doveva essere Un altro villain Che era Incubo Che era questa Persona Questo cattivo Che riesce a viaggiare Nei sogni E quindi Nei multiversi E voleva prendersi Il America Chavez Per Accrescere il suo potere Prende Wanda In ostaggio Perché Ha il Darkhold Quindi si riesce A insinuare Nella sua mente E le fa credere Che i tuoi figli In un'altra dimensione Sono in pericolo Lei allora dice Io devo prendere questa Perché devo andare a salvare I miei figli E a un certo punto Del film lo dice anche Dice io devo salvare I miei figli Ma salvare da cosa Nel film Quindi il concetto È che lei doveva sentire Delle voci All'interno Della sua testa Erano questi richiami Di questi bambini Che lei dicevano In continuazione Venici a salvare mamma Venici a salvare mamma Poi Può essere Comunque qualcosa È che Gianni Non può chiudere Una live Di pizza e cinema Senza che si parli male Della Marvel Non è mai possibile Dobbiamo andare Il suo super Gianni Scusa Giacomo Mi banni Sto genio Per favore Dici vai È l'ultimo genio Grazie Io non discuto Infatti Per carità Il senso narrativo Che può avere Questa scelta O quest'altra Un po' diversa Eccetera Non è che Non ha senso Quello che hanno fatto In termini proprio Di grammatica O di Il fatto è che Uno dice Oggi è un peccato Che ancora Mi concepisci Una donna Stereotipata In questo modo In questo modo Questo tipo di La donna madre Che parla Come tra l'altro Poi nel film Noi la vediamo Che parla Come Giorgia Meloni E che dice Non sono una madre Cioè non sono Una mostro Sono una madre E io sentivo Sono una donna Banda Io sono banda Esatto E quello che ha Non è che Non ha senso Tutta la storia Del dark Della corruzione Per carità C'è A tutto senso Il problema È che Scegli di fare Quella roba lì Invece che Un'altra cosa Capito È lì Il discorso Io Volevo chiudere Questa bellissima puntata Di pizza e cinema Con una domanda Sul futuro Noi di solito Cerchiamo sempre Di andare verso Partuturino Ah beh Scusa Voglio riprendere Un attimo Il discorso di prima Quello su 007 Perché tutto Tutto quel papello Era È necessario Cioè Non si può Ma no Io ti ripeto Secondo me Si può fare Perché Vederlo con gli occhi Di oggi Un James Bond Che era nato Negli anni 40 50 Quando è stato Concepito È bello È bello Da vedere Ha senso È come Vedere Batman Che Ha le vertigini È una cosa Di cui Mi piace Vedere È come Vedere Anche All'interno Di Spider-Man Per dirti Zendaya Che finalmente Zendaya È molto più Mary Jane Che Della Mary Jane Dei primi film Di Spider-Man Ed è una cosa Bella Per capire Come si è evoluto All'interno Della società Perché questo Ti fa concepire Che Siamo andati Avanti E si è andata A creare Anche Un nuovo Tipo Un nuovo Concetto Di morale Un nuovo Concetto Di eroe Perché così È sempre La stessa Cosa Cioè Vedere Un 007 Di 50 anni Fa O vedere Quello Di oggi È la stessa Cosa Allora Che me lo vedo A fa Va bene Beh io me lo vedo Perché è la stessa Cosa In senso Che Se vado a vedere Un film che si chiama 007 No Una spia inglese Vado a vedere Zero Cioè No nel senso C'ha proprio Questo Vado a vedere Superman All'inizio del film Superman Scopro essere La storia di Superman Che deve Andare all'anagrafe Perché forse Il suo vero padre I suoi veri genitori Non sono di un pianeta Di Krypton Ma sono di una cittadina Vicino Perché In realtà potrebbe essere Stato confuso Con un altro Adottato Da una parte Va lì Ed è tutto il sistema Burocratico Lui che Nonostante il mantello E i superpoteri Però ha due pali Deve fa la fila Come gli altri Cioè nel senso Non è Banalmente Ma non è Superman Eppure è nel canone Nel senso Che è una storia Potenzialmente Da Superman Però tu vai a vedere Superman Che è un trademark Come dire Non è una Questo è l'unico E o meglio Si può anche decidere Di fare uno special E quindi Una cosa diversa Ma va annunciato Al pubblico E forse va Non sovrapposto Cioè nel senso Perché 007 Fa parte di una serie Di film Visto che come Gianni C'è il problema Della Marvel Io c'è il problema Di Buzz Spencer E Terence Hill Allora come Buzz Spencer E Terence Hill Sono un franchise Sono un franchise Riconoscibile E quello che abbiamo Sperimentato Sulla nostra pelle È esattamente questo Quando vai a toccare Degli eroi Che hanno una funzione Per il pubblico Cioè 007 È un film Considerato Per quello Diceva Violetta Damaschi Cioè Lo si andava a vedere Una volta Il padre col figlio Si sparava Si sparavano Sì Magari In un mondo Differente Negli anni Sessanta E cinquanta Intanto La madre Andava con la figlia A vedere Una commedia romantica Perché quella roba Era da donne E poi Come dire Era un prodotto Che aveva un target Di riferimento Così come Ne parlavamo L'altra volta Buzz Spencer E Terence Hill Nasce con il boom Dei divorzi I padri Che devono andare Al cinema Con i figli Vogliono portare a vedere Una cosa che è violenta Ma non sessualizzata E non c'è sangue Ecco che Arrivano gli sganassoni Diciamo E Terence Hill E tutti sono contenti Se vai a cambiare Quella regola Cioè se Ha un ennimo sganazzone Buzz Spencer Si gira E c'ha il sangue Dal naso E poi devi andare Da un medico Perché forse Si è fatto male Forse ha avuto Una commozione Non va più bene Non va più bene Allora o tu dici Questo è un nuovo take Cioè parliamo del fatto Che questi due Facciamo una Una roba vecchettiana Dove Buzz Spencer E Terence Hill Hanno presi così tante In testa Che camminavano Nel deserto E Parano come due Che aspettano Che se arrivi la divigenza Non arriva mai Però è un take Su una Su una storia Oppure Noi riproponiamo Il prodotto Per quello che è Cioè una favola Con degli eroi Fissi Diciamo in qualche modo Che non cambiano Infatti è prerogativa Jace Bond Non cambiare mai Però quindi a quel punto Mi stai dicendo Prof Che ci sono alcune storie Che non possono essere Adattate Che sono Cristallizzate In un lasso temporale Ben preciso E che rimangono lì Possono essere adattate Vanno rinnovate Ok Non vanno Cioè Batman Appunto È stato rinnovato Adatto ai nostri tempi E sono convinto Che questo potrebbe Non essere un unicum Cioè potrebbe dare inizio A un piccolo franchise Perché il successo C'è stato È interessante Vorremmo vederne altro C'è sicuramente È come dire Hanno cambiato il paradigma In una maniera interessante Per cui è utile Magari vederlo Agire con altri Con gli stessi villain E vedere Come però un Batman diverso Si rapporta a un villain diverso Diciamo Quindi può essere interessante Fare Fare questo Però è stato rinnovato Non è che è stato adattato Cercando come di dirci Tranquilli Perché d'ora in poi Daniel Craig Lo mettiamo Dove lo mettiamo E intanto Arriverà Piano piano Uno nuovo Si passano il testimone Sullo schermo Che è un tentativo Pavido Perché bastava fare 007 Arriva un nuovo 007 Come è sempre stato fatto Nella storia Ed è uno completamente diverso Che gli altri Non capiscono Perché è stato nominato Parte del pubblico Te lo puoi perdere o no Però È come il dottor Hu È le reincarnazioni Di un personaggio Fa parte Della dell'evoluzione Di quel personaggio Il cambiare il volto È molto importante Da un punto di vista Di drammaturgico Diciamo Cioè nel senso Non è un Appunto L'ottruccia Ha fatto una Ma anche perché Ha fatto un stile Ma anche perché Fra quello che era 007 Di Peace Brosnam E quello che è Quello di Daniel Craig C'è un'enorme differenza Cioè In Casino Royale Lui per la prima volta 007 Si innamora di qualcuno Per la prima volta I film hanno una sorta Di seguito Lui si innamora Di questa donna Adesso non mi ricordo Come si chiama Eva Green Non mi ricordo Come si chiama Il personaggio Che poi praticamente Quest'amore Se lo porta dietro Pure nel secondo film Vesper 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 Se lo porta dietro Pure nel secondo film Quindi Rispetto a quelli Che erano i film Di 007 Prima C'è un cambiamento C'è un sostanziale Cambiamento Infatti vi ricordate Il polvero La polemica Con l'arrivo di Daniel Craig Non era elegante Teoricamente Cioè si diceva Che era capito Uno Hank Che arriva qui E che vuole da noi Perché era Daniel Craig È più fragile Daniel Craig È quello che Che va No Daniel Craig Rispetto a Pils Brossam Sì Viene da Molto più fragile Prende le botte Era un altro tipo Di spia quasi Geopolitica Diciamo C'era quella roba lì Poi pure Con degli effetti Un po' goffi In realtà fu Rifondare il franchise Riprendendo lo Sean Connery Con Daniel Craig Che paradossalmente Comunque era Tornare a quella roba lì Anche il completo Il gessato Ma Pils Brossam Ma quando mai C'era lo smoking Non era Non era 107 Alla Sean Connery Diciamo Quindi L'hanno sempre fatto Di cambiare Ma non hanno mai fatto Di cambiarlo in scena Ok Sì Certo Certo Chiaro Chiaro Volevo Far partire il sondaggio Quindi Guanto di Thanos Mandello Di Giorgio Lazenby Sai che non so Di quale stanno parlando Ma neanche io Nella maniera più totale Perché credo Si sposava Alla fine del film Come ultima scena O all'inizio del film È molto diverso Hai già messo le oggetti Pazzesco Ma tu sei il numero uno Giocano buoni Mantello Grafic novel Trofeo E paletto Ok Volevo chiudere questa live Con questa domanda Che è una domanda Aspetta Prima di chiudere la live Con la domanda Ragazzi C'è il sondaggio in chat Per la questione degli oggetti Quindi abbiamo inserito Il trofeo O il trofep Dell'eroe Il paletto di baffi Il mantello La graphic novel Del corvo E il guanto di Thanos Quindi andate a votare Nel sondaggio Che trovate sopra la chat E vi ricordo che L'oggetto più votato Idealmente dovrebbe rimanere qui Cosa che non succederà Col fumetto del corvo Perché me lo porta a casa Però vedete voi Volevo chiudervi Quindi questa Questa interessante live Che abbiamo fatto oggi Con una domanda Che è rivolta più Nei confronti del futuro Abbiamo parlato di Sensibilizzazione dell'eroe Di un eroe Che diventa Che deve combattere Sempre di più Internamente Che esternamente Abbiamo parlato Del femminile Anche E di come Effettivamente I personali femminili Adesso Sfortunatamente Stanno riuscendo Ad avere Un nuovo tipo Di concezione Anche A punto di vista Proprio di Eroine Vere e proprie Vi chiedo Come si svilupperà Secondo voi Nel futuro L'eroe Se vi dovessi chiedere Fra 20 anni 30 anni Come sarà L'eroe Voi che cosa Mi direste Vai violetta Vai violetta Non lo so Ci devo Un minuto Non lo so Joe Dipende da troppi fattori Io credo che Dipende da troppi fattori Non solo geopolitici Ma pure culturali Stiamo vivendo Un periodo Di enorme cambiamento Di tante novità Alcune belle Alcune brutte E dipende troppo Da quello Che sta succedendo Questa situazione Che prima o poi Si assesterà Da un certo punto di vista E quando si assesterà Usciranno fuori I nuovi eroi I nuovi cattivi Le nuove cose Da qui a 20 anni E che cazzo Però da chiedere Io posso dirvi Che credo Farà la differenziata Molto probabilmente Se ci sarà La possibilità Di fare la differenziata Che sarà Sarà giovane Sarà giovane Perché il mondo È giovane Io credo Sicuramente E crescerà col pubblico Perché l'AP E beh certo Secondo me Non avrà superpoteri Probabilmente farà i tiktok Io credo Io penso in una cosa Penso una cosa E credo in questa cosa Che diceva Gian Battista Vico Cioè i corsi E i ricorsi storici Ed è in parte qualcosa Che già stiamo vivendo Con l'epoca dei supereroi Sotto un altro punto di vista Ma credo Che con l'andare avanti Del tempo Si ritornerà Sempre in una maniera Evoluta Quindi Non dimenticando Di quello che è stato Ma assorbendo Quello che è successo E rimodulandolo In qualche maniera A creare un nuovo Una concezione Che già conoscevamo In parte dell'eroe Cioè Non so se mi sono spiegato bene Gian Battista Vico Diceva che All'interno della storia Ci sono corsi e ricorsi storici Quindi la storia Si ripete Si evolve Ma si ripete Anche allo stesso tempo E credo Che magari Quello che per oggi Che per oggi Noi è L'eroe Che sta all'interno Tra un po' E forse anche Maverick Ne è un esempio E si tenderà Anche a Creare di nuovo Quegli eroi Che incarnano Una positività Che come diceva il professore Sono io l'eroe Seguite me Un esempio Verro e proprio E anche un cattivo Magari più Non lo so Palese e radicato Questa è la mia opinione Però devono diversificare Perché Maverick ci piace a noi No certo Soltanto che noi Siamo un po' La vecchia guardia E quindi Come diceva giustamente Tommaso Loro e Marvel È molto brava in questo Guarda al futuro Parla al futuro Parla alle generazioni future Che noi Già alcuni di noi Già non capiscono più Perché E E Io penso che gli eroi del futuro Saranno anche molto più fluidi E molto più queer Adesso forse è un po' Beh sì Quello sicuramente È un po' Faticoso ancora Ci sta sgomitando ancora C'è fatica C'è Attrito ancora Però gli eroi Degli ragazzi E delle ragazze del futuro Saranno eroi queer Ne abbiamo degli esempi Anche Furbetti Tra mille virgolette Prendete con le pinze Questa parola Io ho visto adesso Elvis Elvis è un personaggio Con grandi sfumature Queer Da come è stato letto Da Buzz Lorman No voglia E E E Anche Quello che ci stanno facendo Annusare I fratelli Duffer Per il futuro di Stranger Things Una quinta stagione In cui loro stessi Hanno confermato Che Will sarà uno dei protagonisti principali Will sarà un eroe queer È È un personaggio queer Che si sta definendo Se stesso E si autodeterminerà Secondo me Nella quinta stagione Quando finalmente Di nuovo tornerà Essere protagonista E lui Forse Forse Se faranno una buona rappresentazione Forse sarà uno dei primissimi Veri eroi queer Attivi Ok Nella Del mondo Eroistico In questo senso Vediamo E poi forse Forse sarà anche Un eroe a tempo pieno Nel senso che Con il fatto che i media Ormai sono fruiti Continuamente Diciamo Nel senso La quantità di prodotti Che un nuovo eroe Dovrà Dovrà Interpretare Tra Tra appunto I social media La promozione La messa in scena Le serie I film I videogiochi Sarà un eroe Per cui la stessa narrazione Dovrà essere diversa Ci sarà una Componente di quotidianità Molto forte Dove magari avrà Il film evento Dove vedremo Scontrarsi con una grande Finaccia Ma la serie La serialità Che accompagnerà più La quotidianità Delle persone Quindi vedremo E conosceremo Quali sono i mondi Intimi Di un eroe E non solo Quando suona Quando suona Il segnale Che deve andare Ma vedremo Tutte Le facettature umane Diciamo Perché cambierà Anche quello Effettivamente è vero Marvel su questa roba Ci sta puntando molto Se pensiamo a Spider-Man Come viene contestualizzato Tutto il suo mondo Quotidiano Anche L'ultimissima Miss Marvel Come viene raccontata Poi In Miss Marvel Ancora di più Perché si vuole parlare Di folklore Di tradizione Che sono molto diverse Dalle nostre No? Quindi c'è proprio Un interesse A concentrarsi Sulla sua famiglia E sulla sua quotidianità Sull'assimilazione culturale Che fa Della cultura americana Che è molto interessante E tra l'altro Poi Miss Marvel In particolare Che è una ragazza Forse Dal punto di vista Del racconto Dell'eroina femminile Potrebbe rappresentare Un nuovo status Per le ragazzine Di oggi Perché Mentre io Negli anni 90 A me veniva proposta Non lo so Una storia X Che più o meno Erano tutte uguali Non mi ricordo adesso Il titolo Di quella Con Network In cui la ragazza A un certo punto Qualunque scopre Di essere una Pretty princess Che scopre di essere Una principessa E Ottiene Un grande potere Però viene chiusa In un castello E quel grande potere Le serve Perché comunque È chiusa Nel focolare domestico Comunque nella casa E comunque Si deve occupare Di trovarsi il principe E la sua avventura È lì Quindi è una romanticizzazione Di quello che poi Non diventiamo principesse Di quello che poi sarà Il futuro Delle donne comuni No? Magari Quindi devi desiderare Quello Miss Marvel Forse è un nuovo status Per queste ragazzine Che invece vedono Un'eroina Che sfonda Le barriere Dei architettoni Che della sua tradizione Della sua famiglia Che la indirizzano In un certo Su una certa via E in realtà Lei scopre anche lei Di avere un potere Un potere Che però non è Essere la principessa Del regno Ma è avere In quel caso Il superpotere Che addirittura Lei è molto legata Al movimento Al camminare Lei cammina Tantissimo Su questo superpotere Quindi è proprio Proiettata Via Poi viaggia Addirittura Va all'estero Torna nelle sue tradizioni Ma va comunque all'estero Quindi proiettata Verso un mondo d'avventura Che è al di fuori Che è esterno Che bello Grazie Violetta Allora siamo in chiusura Fra l'altro c'è Rotelle che dice Ellie di The Last of Us Il mondo dei videogiochi Comunque secondo me È 100.000 passi avanti Rispetto al mondo O la protagonista di Nostos La protagonista di Nostos Un cortometraggio a caso Comunque il mondo dei videogiochi È 100.000 anni avanti Rispetto al mondo del cinema Io ho scoperto E' uscito da poco In realtà Un fumetto Che si chiama Marvel Pride In onore del Pride E ho scoperto Che le prime avventure Con persone Proprio gender fluid Erano già scritte Negli anni 80 Certo Poi non sono Mi sa che in quel fumetto Non sono riportate Quelle storie lì Ma perché il grande spoiler È che il gender fluid Esiste da sempre Da sempre Non è che non l'ho raccontato Per dire che Mi ricordo Di quanto se ne parlava Dentro France Non è che non se ne parla Però C'è anche Mulan Negli anni 90 Esatto Cioè Assolutamente queer Anche Shang-Chi Nella storia stessa Che si imbaguisce di lei Prima di scoprire Che lei è una Che lei è una ragazza Si imbaguisce di Ping Lui Cioè ci sono molti Sottotesti queer Sfaccettati in Mulan E siamo nel 97 Quindi a voglia Ma anche a suo modo Nella serie tv di Batman e Robin Robin è un personaggio Antigianamente queer A voglia Comunque ragazzoli Si è fatto tardi Noi chiediamo qua Vi ricordiamo che La pizza non l'ho proprio ordinata Gianni Ancora questa storia Vi ricordiamo che Il 22 Quindi venerdì Ci sarà L'ultima Puntata Di questa stagione Riguardo alle news Sì Di questa stagione Riguardo alle news Quindi noi ci rivediamo venerdì E con le news Ci rivedremo Se Dio vuole A settembre Invece Martedì prossimo Che non mi ricordo Che giorno viene Martedì prossimo C'è l'ultima puntata Di questa stagione Riguardo Alle puntate tematiche Come quelle di questa sera Dove si parlerà Del horror E avremo come ospite Roberto De Feo Che è colui Che ha creato Una serie di horror Tra cui A classic horror storica E quello che Mi è piaciuto molto E che capisco che Alcuni ha potuto Far rosicare Però a me è stato Proprio una cosa Che mi ha colpito In positivo Detto questo Io vi ringrazio Sondaggio Il sondaggio ha vinto il tuo Sondaggio Ha vinto il tuo Quindi ce lo devi portare Ce lo devi portare Il paletto Sì Come no Questo ciocco di legno Intagliato Ma l'hai fatto tu? Sarà bellissimo Sarà te Certo Vogliamo Il ciocco di legno Intagliato Potreste prendere il tetano Però ve lo porto Io vi ringrazio Per non aver fatto vincere Il fumetto Grazie per non aver fatto Vincere il mio guando Così me lo riporto a casa Sulla coppa Avevo dei problemi No Sulla coppa Avevi dei problemi Quello Chi cazzo lo voleva Comunque Detto questo Vi salutiamo Grazie Violetta Grazie Tommaso Vi ricordo Come al solito Ponte schramativo Violetta Ponte schramativo Tommaso Ci sono tutti i nick Io volevo ringraziare Velocissimamente Bonzo72 Per i due mesi Marco Cream 4 Per i 7 Richard Htt Per i ride Alessandro 0710 Per i 23 mesi Dillinger 667 Per i 9 mesi Ridley Scott Per i 26 mesi Maestro Sempre qui Polizia Dutizio Per i 4 mesi Supersonics 2 Per i 4 mesi Diners Per i 19 Ale 2574 Per Prime Giulia E tanti altri Che si sono iscritti Al canale Che hanno rinnovato L'iscrizione Grazie ragazzi Andiamo Adesso posso chiudere Giacomo Venimi appresso Chiudo in maniera Cinematografica Giacomo Avreste dovuto Mirare Alla testa Ma che cazzata Speriamo che non l'abbia chiusa Non l'ha fatto Adoro Chiudi sta roba Giacomo È Giacomo Che schiotta le lida Pizza e cinema Il podcast in cui Mentre aspettiamo la pizza Parliamo di cinema E serie tv Giacomo 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 Giacomo